Buonasera, buonasera, oggi si chiacchiera con Power che aveva, a tempo addietro, mi aveva chiesto di giocare con lui a Dark Souls, poi siamo rimasti occupati, lui è partito per dei progetti e ultimamente mi ha invitato a fare una serata insieme parlando del boss. È una cosa che mi fa impazzire che ci tenesse così tanto ed è bellissimo, anche perché non ho mai avuto occasione di parlare con lui un po' di tempo, quindi passiamo una serata insieme. Allora, io vi dico, metto un po' di musica, ecco qua, e gli dico che sono pronto. Allora, dico pronto quando vuoi, pronto quando vuoi. Gli faccio anche attivare la squad stream, la squad stream, perché non è abituato, immagino. E vediamo. Hola, maestro. Ti sento benissimo. Mi senti bene? Troppo forte? No, no, perfetto, anzi, anzi, persino quasi basso. Ah, meno male, meno male. Allora, io ti giuro ho un piacere a fare questa live perché era da tempo che cercavo di fare qualcosa con te. Ma è quello che ho introdotto ai ragazzi. Ah, ma gli hai raccontato del ghosting a vicenda, di tutto? Sì, sì, io l'ho a malapena accennato, però sì. Ma poi una cosa, tu Michele non lo sai, ma io ti seguo da tantissimi anni e ho iniziato da Twitter a seguirti io. Io ti ho iniziato a seguire da Twitter perché era proprio il periodo di Dark Souls 1 e seguivo Battividia. E cercavo qualcuno in Italia, sì, 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 che può essere Dark Souls, con contenuti prettamente in italiano, no? Cioè. E quindi ti ho trovato totalmente a caso, nel nulla. Stupendo. Ti giuro, e quindi fare questa cosa a te mi fa un botto piacere perché ho seguito veramente le prime anime proprio dagli inizi. È bellissimo riuscirci, infatti, eh. Quindi questa è la cosa particolare. Volevo fare con te qualcosa di diverso. Ti dico una cosa, molti mi dicevano, guarda, Giorgio, ma tu che c'entri con Dark Souls, molti non lo sanno che io sono un fanboy di merda della Flam Software, me lo dico da solo, guarda. Perché? E poi ti devo fare il sopreambolo. Poi parlerò più di te, per una volta. Aspetta, prima di farlo, accetta la Squad Stream. Hai ragione pure tu, vado subito, maestro. Arriva subito, accettata. Tra l'altro io ti posso pure streammare la mia cam. Così mi puoi dire. Tramite Discord, dici? Yes, sir. Vuoi usare qualcos'altro? No, no, io sono molto, molto inadatto a capire Discord, però se tu me la mandi io la uso. Devi utilizzare dove c'è sotto in basso a sinistra c'è video e devi cliccare lì. No, no, ah, non funzionerà mai, Giorgio. Non funzionerà mai questa cosa? Perché se io provo, io ci provo, no, 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 no. Sta già venendo utilizzata la OBS la mia camera, non posso farlo. Ah, ok. Tu ne hai due. No, avendo due PC posso fare questo tempo. A un giorno, quando avrò lo spazio, anch'io avrò i due PC adesso non fa no. Allora lei lo sa di cosa si occuperà? Si occuperà di mettere il video dei boss, facendo l'anteprima del suo schermo. Ho sbagliato scena io. Perfetto, perfetto. Questo, this I can do. Allora. Ok. Allora, aspetta che disattivo pure la mia gamma, così mi si vede di qua. Eh, sì, ragazzi, ho toccato tutto, ho toccato tutto. Allora. Intanto racconta pure, parla... Allora, praticamente io ho scoperto Dark Souls nel modo più strano possibile. Era il periodo che giocavo, mi pare, a Modern Warfare, non mi ricordo quale, se il 2 o il 3, e viene da me un amico, lui è molto appassionato di JRPG, dei quindi di RPG giapponesi, e mi disse, Gio, c'è questo gioco che a te assolutamente piace. Perché io sono affascinato da quegli scontri alla Davide contro Golia. Sempre stato appassionato nei giochi, questi scontri dove ci sta il boss gigantesco, e poi tu che sei minuscolo in confronto al boss lo devi fai dare. Mi presenta questo gioco con il video del drago, io di quello che io chiamo il drago vagina. Sì, sì, il Gaping Dragon si chiama. Il Gaping Dragon, per me lui rimarrà il drago vagina. È giusto, lo comprendo. È una vagina dentata per me quello. Perfetto, ah ci sta. Mi presenta il video, io vedo il video, e la prima cosa è che faccio ok, usciamo, andiamo al GameStop, e andiamo a cercare il gioco. Andiamo a cercare il gioco, il gioco è introvabile in Italia. Era appena uscito, ed era fortunatamente introvabile. Non si trovavano, non si trovava proprio il gioco, e a un certo punto vado a scoprire che il gioco esiste solo in versione limited in Italia. Non esisteva la versione normale, almeno. Io sono andato al GameStop e tutte le cose al GameStop. Hai trovato la versione limitata. Io c'ho la versione limitata, quella che c'è alla scatola di carta. Sì, 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 la conosco, la conosco, la conosco anche io qua, per PlayStation 3. Io ce l'ho per Xbox 360, perché io non ho mai avuto la PlayStation 3, quindi io non vengo da Demon's Soul. Ecco, tu hai cominciato direttamente con Dark Souls. E qua c'è una storia simpatica, perché spendo questi 80€ per la limited, io piccolino, e quindi pure una spesa importante, vado a giocare al gioco e inizio. Inizio giorno 1, giorno 2, faccio, combatto, faccio, arrivo a quello che è il primo boss effettivo, quello dopo il carcere. Va bene, sì. Il primo boss, guarda, non ti dico il nome, ti spiego solo una cosa che è successa. Esatto, perché il primo boss può essere diverse cose, quindi vai pure, dimmi. Arriviamo al primo boss, dopo ti dico il nome del primo boss, arriviamo al primo boss, io sono là, e mi fa scelerare, perché la zona era prettamente troppo difficile, era esageratamente difficile, ci volevano non so quanti colpi per shottare un singolo mob, beh io non capivo il perché, cioè mi hanno detto il gioco era difficile, però non pensavo così tanto difficile, diciamo ma questo è estremo, cioè non ha senso. Dopo due giorni che sbrocco a farmi di nuovo sempre la storia per andare a questo boss, dico non ci gioco più, smetto di giocarci, lo abbandono. È un'esperienza molto naturale comunque, funziona, ha senso, ha molto senso. Dopo tre giorni dico cazzo ma io l'ho comprato, non mi possa rendere così, lo devo fare. Faccio la pinwheel, l'ammazzo. È il mio primo vero boss, è stata la pinwheel. Quindi immagina la cosa di fare... Incredibile, tu hai avuto un'esperienza traumatica. Ma non hai capito, dopo la pinwheel c'è la tomba dei giganti, no? Sì. C'è la tomba dei giganti che non ci puoi andare ovviamente a quel punto. Quindi io venivo shottato da creature abnormi che non capivo da dove avvenivano, cadevo nel vuoto, totalmente a caso. Ed ero lì perso che non sapevo cosa fare. Cioè ero proprio, lo sai che vuol dire, mi sentivo tipo alienato da quel gioco. Allora a un certo punto faccio, mi devo cercare un wall true. Cioè devo capire che cosa sto sbagliando, perché io non volevo utilizzare wall true, però a un certo punto diciamo ma che cazzo sto facendo? E là vado a vedere wall true e scopro che io avevo sbagliato totalmente tutto. Cioè io non sapevo che era il borgo dei non morti. Cioè io non ho visto niente di tutto quello per cinque giorni. Cioè è stato pura follia e dalla mi sono innamorato del gioco. Perché ho cominciato a capire il level design. Cioè io sempre immaginato l'iscrizione. È certo, è ovvio, ti aspettavi qualcosa che, come tra l'altro in parte accade su Demon Souls a livelli, a quadri, quando in realtà eri invece in una sorta di uovo, un ecosistema in cui dice vai, vai, let's go, goditela. E quella è quella la cosa, è stata un'esperienza traumatica che però mi ha rapito così tanto, Michele, che io poi ho ricercato tantissimi giochi Souls-like. E l'unico che effettivamente mi ha, come si può dire, fatto almeno diciamo riprendere l'occhio, comunque dire oh cazzo questo gioco ci può stare, è stato Dragon's Dogma. Vabbè, è molto, molto vicino a quella filosofia, lo capisco appieno. Tantissimi mi vorrebbero vedere giocare Dragon's Dogma, credimi, tanti, tanti. Ma non l'hai mai portato? Mai, mai. Io lo trovo molto bello pure perché ci sono lunghissime camminate da fare, che a me piace tanto come cosa di esplorazione, no? Pure le shortcut che ci sono, ovviamente il gioco è molto più basic rispetto a Dark Souls. Sì, non è tanto più basic, è proprio una filosofia diversa, è proprio, sì, è più GDR, con quella meccanica delle pedine, yada yada yada, sì. Dark Souls è più strategia di combattimento melee, quindi ci sta che sia più avanzato sotto alcuni punti di vista per te, ha senso, perché è molto più corporeo. Ma tu pensi che io ero così malato di Dark Souls che quando uscì Dark Souls 3 c'era la release ovviamente prima in Giappone. Io feci tutta quella cittata incredibile con l'Xbox One per scaricare la versione giapponese. Ma guarda, ti dirò, è stato un dramma. Quello è stato un dramma perché in realtà nell'epoca moderna non ci sono più le release diverse in base al paese. Quello che è accaduto con Dark Souls 3 è stata una delle ultime volte proprio a colpo di frusta, è stato il terrore per gli spoiler, quindi porca miseria. Eh, però tu immagina giocarlo, avevo che era 15 giorni prima se non sbaglio, me lo ricordo 15 giorni prima io stavo totalmente impazzendo, cioè era qualcosa di incredibile. E poi Dark Souls 3 per me rimane il culmine della From Software perché Bloodborne per quanto mi piaccia non è lo stesso stile, personalmente. No, no, non lo è. No, no, palesemente non lo è. Lo spirito è quello, ma l'anima è diversa. Comunque, l'obiettivo di questa live, dato che molti dicono, cioè questo qua è tipo un crossover stranissimo per molti, no? Io che gioca gli sparatutto, tu che giochi comunque un pochino di tutto, pure single player e così. Però la verticalità è diversa, ovviamente. esatto, perché andiamo a fare una cosa particolare, andiamo a dare le nostre opinioni, una sorta di recensione. Dai, che bello. Dillo tu, perché questo è divertente, io so che tu non l'hai mai fatto, io pensavo tu l'avessi già fatto una cosa del genere, mi hanno detto solo la taglia lista. Ho fatto una tier list, esatto, no, 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 ho fatto una lista, tra l'altro è l'unica che ho fatto in cui ho messo in una generica classifica, ma senza andare troppo nel dettaglio, quindi tra l'altro avere appunto due punti di vista così diversi. Tra di noi è stupendo, infatti ragazzi, ve lo dico a suo nome e a nostro nome, oggi si chiacchiera boss by boss tutto quello che si affronta in Dark Souls 1, anche a livello di esperienze personali. Io non ho idea di quello che mi racconterà Giorgio. Quindi il buon power qui avrà da, in qualche modo, scoprire i veli. Sì, sì, sì. Ma poi qua andiamo a analizzare comunque cose che molti magari non ci pensano, però per me è un fattore importante di Dark Soul che mi motiva tantissimo quando gioca la colonna sonora. Cioè me la colonna sonora è una delle cose che quando gioco mi fa impazzire. O le meccaniche dei vari boss, perché mica tutti i boss si fanno allo stesso modo, cioè è anche spank, no, come molti pensano. Quindi ci sono un sacco di particolarità. Dark Souls 1 ovviamente è più basic rispetto a Dark Souls 2 e Dark Souls 3, però io volevo iniziare con l'1 perché l'1 per me, cioè io sono pure ritornato a giocarlo adesso con la mod che ho scaricato, che veramente dautero fascis mi sto divertendo un botto con la chat. Ma guarda, pensa alla community, pensa a quanto amore riceve Dark Souls se ancora oggi vengono sviluppate mod a volte di una complessità folle. A fine gennaio esce Nightfall. Eh, l'ho letto, l'ho letto nel loro Discord, sono entrando nel loro Discord. Infatti ho detto, cos'è, non voglio sapere niente. Chiudi tutto, aspetto che esce. Eh, quella è gigantesca. Probabilmente potrebbe anche non essere per te di gusto, perché sono abbastanza sicuro che ci infileranno parecchio Bloodborne, però vedremo. Io perché trovo Bloodborne troppo più action rispetto a Dark Souls, perché la schivata e i fucili e le pistole, se tu le incominci a usare, per carità da vedere, è uno spettacolo, ok? Però allo stesso tempo mi piace un po' quella meccanica un po' chunky, no? Non lo so come dire. Ma come no? Ma certo, il chunky è il termine perfetto. Bulky, ecco. Sì, sì, esatto, esatto. Voglio capire che è un pochino rosico l'hitbox che è più grande dell'attacco che mi hitta, capito? Il fatto che devo avere quella sensazione di sfida. Essere trattato male, perfetto. Sì, sì, sì. Comunque, vai, lascio l'inizio, vai. A questo punto dimmi come vuoi agire, perché ti dico, hai, dovresti avere in share screen, in Discord. Lo sto vedendo. Ah, ce l'hai, quindi perfetto. Sto vedendo già la schermata di quello che è il primo, tra virgolette, boss. Quindi anche i tuoi ragazzi stanno vedendo, bene o male. Yes, sì, stanno già vedendo. E allora siamo perfetti. Allora, io in questo caso sono molto, molto, molto curioso, perché della tua esperienza non so niente. Però, allora, dobbiamo dare per scontato che non potremo, ragazzi, starvi bene, bene a presentare anche solo come si arriva o cosa rappresenta ciascuna creatura che andremo ad affrontare qua. Se no facciamo tre settimane. Se no, sì, se no sorge il sole e siamo a un terzo finito. Non è il caso. È vero. Ci sono serie intere che ho dovuto costruire per poter affrontare quel discorso. Però, noi qui, potendo avanzare, allora, abbiamo, adesso ve lo mando anche in play. Yes. Il volume non so perché non lo sento, o forse lo devi attivare tu. Fammi pensare, se no... Ah, certo, ho capito il perché. Nel mio setup, di solito, quando faccio uno share, il volume è un difetto. Quindi ho lavorato affinché non si senta. Adesso io te lo tolgo e te lo ripostruisco con l'audio. Dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Me lo ricostruisci. Cioè, mi faccio stop streaming. Ok. Share your screen. Vediamo un po'. Aha. Sta a vedere. Dimmi se adesso, mando in play, se senti qualcosa. Risatto la mia voce, credo. Ecco. Allora. Questo è il problema. Ecco qual era il problema. Come possiamo fare? Come possiamo... Ah, ho un'idea. Allora, abbiamo un'opportunità. Scegli tu. Scegliamolo insieme in diretta. Io ho messo una musica di background. Quindi sto chiacchierando con te e ho una soundtrack dei Souls relax, proprio da YouTube, semplice e comoda. Possiamo o guardare Boss by Boss e discutere senza l'audio sporco del combattimento, oppure fai tu con l'audio perché hai due PC. Io prendo il tuo e abbiamo anche l'audio, però... Io ti posso streamare io il video. Se mi passi il link in privato lo streamo io. Ma certo. Lo metti in pausa io. Assolutamente. Siamo liberi. Allora. Così viene pure più easy. Assolutamente. Guarda, è tutto pronto. Ti accetto la richiesta d'amicizia a questo Discord. Te l'ho mandata. Oh, ottimo. Basta tanto fai click destro e fai invia richiesta d'amicizia e l'accetto in automatico. Perfetto. Ti trovo. Ecco qua il link. Nice. Eccoci qua. Poi, allora, vediamo un po'. La tua richiesta la pesco subito. Ok. Allora, io ho fatto ad friend, quindi dovremmo esserci. Sì, sì. Se ora mi iscrivi dovrebbe andare. Yes. Infatti posso fare saluda. Ecco ti qua. Io ti mando subito il link. Allora, decidiamo come fare. Abbiamo diverse opzioni. Quindi, col tuo setup, vediamo cosa esce fuori. Questo è il video. Questo è il video. Dark Souls, Remastered, Old Boss. Ah, perché andiamo a vedere pure DLC. Eh, sì, per forza. Meglio così. Sì, sì, sì. Lavo la pubblicità. Tra l'altro, shout out, non è un creator. È un canale particolarmente tecnico, ma Boss Fight Database è un canale super interessante su YouTube, ragazzi. Perché è proprio un database di quanti più titoli possibili in cui andare ad approfondire le Boss Fight senza commentari o analisi. È semplicemente lì. Contenuto video. Allora. Allora, qua ce l'abbiamo. Dimmi se si vede. Ah, vediamo un po'. Hai fatto cosa? Ah, dalla tua live? Yes. No, 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 no. Sul Discord. Ho fatto stream a schermo. Devi fare guarda diretta. Allora. Aha. Aha. Perfettamente. Allora, adesso, ragazzi, non preoccupatevi se non lo vedete. Non preoccupatevi. Ci penso io. Vediamo se si sente l'audio al volo. Tu lo senti? Sì. Perfetto. Perfetto. Allora ci vediamo. Mi stai suggerendo sempre più chiaro il bisogno di fare un upgrade incredibile. Ma quello serve una casa nuova. Allora. Eh, beh, il Double PC ti salva pure per un botto di situazioni. Quando devi fare aggiornamenti, stress sul PC magari di un gioco. Può aiutare tanto come cosa. Capisco tantissimo. Step by step. Allora. Bellissimo. Adesso metto i bordi. Sono praticamente pronto, eh. Bello. A questo punto fai la regia. Faccio la regia pronti con il primo boss, quindi. Il demone. Ah, iniziale. La film demon. Iniziamo da qui. Il demone, esatto. Del rifugio. Questo è quello che ti appare a tradimento quando non te lo aspetti. Esatto. Tu cosa diresti di questo boss? Cioè, come recensione? Allora, questa boss fight richiama tantissimo il Vanguard Demon di Demon Souls. Tu non hai mai giocato Demon Souls? Ho giocato Demon Souls sulla PS5, quella Remastered. Ok. Questa è una sorta di ricostruzione del primo demone del tutorial. Se ci fai caso. È semplicemente lo stesso meccanismo. Tu fai un tutorial molto docile, molto dolce. A un certo punto, di prima Kito non te lo aspetteresti mai, ti arriva una creatura assolutamente impossibile da abbattere, tanto che all'inizio non le fai danno. Hai una spada rotta all'inizio. Esatto, è quella della spada rotta, infatti. In questo caso lui sta utilizzando infatti le bombe nere. per danneggiarlo e poterlo sconfiggere. Questa è la chicca, per questo il video funziona. Perché ha preso come dono iniziale le bombe nere. Quello che ti si può dire di questo boss, guarda, lato tecnico è che comunque è semplice. Lui ha un moveset molto più originale di quanto non si sospetti, perché ha l'attacco alle spalle se gli vai dietro, il pestone col martello se gli vai davanti, ha un pattern che può essere un po' incastrato perché si comincia a dare le culate, se fai un po' di spacing la jala puoi incastrare e così via. Però, ti dico, è un impatto iniziale che mette in prospettiva quello che ti aspetta in Dark Souls. Esatto, infatti è quello che vuole dire, è l'effetto sorpresa, no? Perché tu entri, attraversi la nebbia, la prima volta che l'attraversi questa nebbione enorme, entri dentro, parte la colonna sonora a mille. È la prima cosa che succede. Senti questa colonna sonora, bam, arriva il demone, splash, così subito a terra. Questo qua è proprio il benvenuto, cioè è proprio Welcome to Dark Souls. Anche perché tu fai il giro, lo raggiungi da sopra, e la kick è questa. Il gioco vuole introdurti, tramite il game design, tramite il level design, al suo combat system. Ossia, se tu, da quell'altura, ti facessi cadere, potresti fargli un plunging attack con, quell'animazione unica, in cui gli conficchi l'arma melee di scelta della classe, sulla testa, facendogli un danno gigantesco. Il problema è che se titubi, se hai paura, lui salta e ti distrugge il piristallo su cui sei entrato. E quello che succede, un sacco di giocatori me l'hanno raccontato questa cosa. Io non sapevo facesse questa cosa. Perché molti stanno lì, no? Magari non leggono nemmeno i suggerimenti all'inizio, che sono scritti. Così, quindi tu arrivi in quel momento, e stai e fai, che faccio? Se casco muoio, no? Così lui salta, bam, rompe quella balconcino. Ti toglie ogni dubbio. Esatto, esatto. Secondo me questo qui è un buon boss, ovviamente come introduzione. Per carità, le meccaniche sono molto semplici, però l'effetto sorpresa che hai, dopo circa 10-15 minuti che sei entrato dentro, è bellissimo. Specialmente nel 2011. Comunque sono passati dieci anni, e ancora oggi i giocatori che lo giocano rimangono a bocca aperta a vedere un boss del genere, perché dice come cazzo faccio? È il pensiero principale che ha un classico giocatore che gioca per la prima volta a Dark Souls senza spoiler. Ma infatti l'effetto che ti fa giocare la prima volta al genere è insostituibile. Tu arrivi lì. È un po' come sarebbe stata la prima avventura di Zelda non fosse stato un gioco di 30 anni fa. È ovvio. Quella era una limitazione tecnologica, non sarebbe stato così punitivo e hardcore. Però l'effetto di sono in un mondo aperto e devo trovare io la mia strada. Ci sarebbe stata come c'è stata in maniera un pochino più ridotta all'epoca, perlomeno senza includere fantasia e contesto storico in cui era comunque stupefacente. Dark Souls te lo dice senza la fantasia e la magia. Te lo dice con le mazzate in faccia. Brutale, brutale. Cioè, educazione siberiana veramente Dark Souls. Cioè, proprio cattivissimo. Però hai ragione, su questo non c'è così tanto da dire perché è il suo ruolo. Lo trovi lì, è obbligatorio, fai il giro, è carino che tu debba scappare la prima volta, se non hai le bombe nere. Se le hai, puoi distruggere. Se lo distruggi, hai un premio extra. Io, allora, io personalmente non lo ritengo un buon boss, però l'effetto scenico della prima volta è quello, fa tutto, diciamo, di questo boss. E io direi, personalmente, la colonosola è molto bella perché senti proprio, lo sai che vuol dire proprio parte subito, istantaneamente, pare una botta, che si alza e dici cosa sta succedendo. C'è quell'attimo di panico perché non hai mai visto un nemico così grande solitamente. Quindi, a me lo chiede tipo da Monster Hunter o Giove City. No, certo, però in generale comunque è un action, quindi ti ritrovi lì e non hai il personaggio in grado di fare skill pazzesche, teletrasportarsi. Esatto, non è un hack and slash, non è uno stylish, è un... ragazzi tuoi, esatto. Esatto, esatto, quindi è un buon boss, ovviamente meccaniche semplici, però è l'introduzione. Quindi per tutti, per chi l'ha giocato la prima volta, comunque, un posticino speciale ce l'ha, perché tutti ci ricordiamo la prima volta che abbiamo preso mazzate dal demone della film, quindi ce lo sappiamo Assolutamente sì. Andiamo avanti, secondo boss, quello che per me è dei peggiori boss del gioco. Uh, vediamo. Vediamo, vediamo, ah, il Taurus. Il demone d'oro per me rimane... Guarda, alza pure un po' il volume del video. Alza pure. Sì, sì. Allora, io personalmente, Michele, questo qua è uno dei peggiori boss, perché dopo aver fatto, vabbè, io perché sono andato a fare la pinwheel e quindi, pensa, mi sono messo a fare cose meccaniche fuori di testa. Esatto, tu sei finito alla base delle catacombe, non proprio... Esatto, però io l'ho pensata ovviamente proprio al demone dell'introduzione, con quello che... Io lo chiamo l'attacco in salto. Però il plunging è tacca. Sì, 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 è il plunging, sì, 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 è giusto. Facendo il plunging diventa uno spam di questa mossa. L'idea è molto bella, però parliamo, secondo me, di un boss che non è un vero boss. È un mini boss. Sì, allora, a livello di gioco è chiaramente una boss fight, però è una di quelle creature che poi diventa un mob normale, quindi mini boss è perfetto, eh, come... Mid boss è perfetto come modo di descriverlo. Quello... Perché l'Italia, il fight è bello pure il luogo, no? Che combattono. È bravo, è quello che stavo dicendo. Il trucco per rendere la creatura effettivamente interessante e memorabile è che la combatti su uno strettissimo ponte. Tra l'altro, con superata la nebbia, inaspettato quindi che arrivi questa creatura perché hai già superato un paio di nebbie senza boss prima, hai degli arcieri alle spalle che se non lo noti subito ti colpiscono durante lo scontro, mettendoti nella soggezione e nel panico più totale. Parti dalla pubblicità, la vado a schippare, chiedo scusa. Sì, sì, no, tu poi puoi... Ma guarda, tranquillo, la vediamo anche noi. Siamo insieme e lo stiamo guardando via video. Ecco, tu qua, ovviamente puoi anche farlo ripartire quando vuoi. Ogni tanto butti dietro. Così almeno lo rivediamo. Esatto. E il punto simpatico è che di nuovo, anche qui, level design e struttura del gioco ti permette di affrontarlo in diversi modi. Hai la scala dietro per il plunging, puoi buttarti qui, puoi salire le scale e aspettare che arrivi lui trovi della resina elettrificata che è in grado di potenziare la tua arma Emily talmente tanto da distruggerlo. Cioè, ti dà diverse chance, però sì, a livello di creatura il boss è sicuramente inferiore a tanti altri. Ma quello che può fare qui mette Dark Souls in prospettiva. Perché pochi altri titoli di questo genere che stava diventando poi un sottogenere, anche soltanto un action RPG, ha quella varietà. Perché lui si ha questi quattro attacchi, va bene, lo fa in base alla distanza, ma può saltare sopra. Può saltare le indietro e magari cadere, perché guarda, il ponte rotto, lì può cadere. Cioè, non è rotto a caso. Hanno pensato, diamo questa chance al combattimento, facciamo sì che possa cadere un po', no? E quindi... C'è stato un problema di connessione, scusami, che ha lagato, non si è lagato pure a te. Si è partito un lag spike incredibile. Ora dovresti andare tutto bene, c'è stato un mancamento alla mia connessione. No, io concordo con te, perché poi io voglio prendere proprio, voglio fare l'esempio con il golem di ferro. Più avanti. Oh! Allora, personalmente, però, ora metto in pausa, beh, vai. Allora, a livello scenografico, il combattimento rimani a bocca aperta, perché poi ti ricordi del luogo, no? Che combatti sulle mura, come devi combatterlo e tutto il resto. però, come il, comunque, l'asilo in daemon è comunque un boss molto semplice se capisci che devi fare sempre il plunging attack salendo sulla torre. Ti pre, ovviamente, è meno preparato rispetto a quello che è il, il boss del, dell'intro, però, allo stesso tempo, è virami, secondo me lo trovo addirittura più semplice. Mi dispiace dirlo, ma lo trovo molto più semplice, questo. Lo trovo molto più semplice, però, devo dire che, effettivamente, trovarsi contro, cioè, l'idea che io sono entrato nel gioco è che io combatto i demoni. Questa era la mia idea quando iniziò a giocare. per me era che devo combattere i demoni, no? Certo. Vedendo il nickname, per me devo combattere i demoni. Quindi, mi ha sviato tanto questo, questo boss da quello che verrà dopo, perché non capivo, no? Io dicevo, quindi, sono demoni, su demoni, su demoni, uno dei peggiori, secondo me. Vai, vai. Adesso, è uno di quelli realizzati peggio, perché alla fine questo diventa un mob. Sì, 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 come il Capra Demon. Esatto. Come il Capra Demon. Però, il Capra Demon, per me, c'è un posto speciale. E mo' l'andiamo a vedere. Perché il Capra Demon, io ti giuro, c'è un posto speciale. ce l'ha per tanti, un po'. Questo, però ci sono i gargoyle qua. Però partono subito. Eh, ecco, ecco, i gargoyle. Questo, per me, Michele, è una delle migliori boss fight. Perché? Perché una dei migliori boss fight? Perché tu hai l'idea di combattere un solo boss. Quindi tu hai fatto per ora l'asile un demon, hai fatto il demon e toro, arrivi qui e dici devo combattere il gargoyle. Mid fight, come il gargoyle, ti prendi due tempi, cerchi di prendere spazio, no? Pure per combattere, cominci qua già comunque ad avere una determinata abitudine al combattere. quindi a cercare di prendere tempo, le distanze, il timing. Ti fa prendere le distanze, il timing, il moveset in un'arena in cui però non hai pareti e potersi cadere giù. Esatto. La prima cosa è questa. Combatti in un posto dove rispetto al ponte di prima che comunque è più difficile, mi pare che il demonetore abbia pure un grab, forse. No, non ha un grab, però ha delle Aoe che valgono tanto quanto. Non ti può prendere, lanciare o mordere, però... Ti può lanciare via. No, no. E' la parte più difficile. Ah, sì, giusto, ma vabbè, quello poi ce lo teniamo se una volta lo dobbiamo fare perché per me è stato tipo io che urlavo come una ragazzina al concerto dei Wandi Rack. E qua la cosa che più mi ha stupito è il fatto che tu stai combattendo un singolo boss e a un certo punto ne arriva un cazzo di secondo. Un cazzo di secondo e lì che ci hanno sciotto. Il fratellone tra l'altro è leggermente diverso e si comporta in maniera diversa. Perché casta magie tra l'altro. Casta, se non sbaglio, magie di... Lui soffia a fuoco come fa il suo fratellone diciamo principale però essendo danneggiato lo fa a un ritmo diverso e a una distanza diversa. Ha un'intelligenza artificiale unica. Non è un incantatore combattere in una maniera diversa. Sì, combattere in una maniera diversa. Vabbè, lo si vede pure che sono... Comunque per chi non lo sapesse o vabbè, li vedete già da questa immagine che si trovano sopra sulla torre dove si suona la campana e vedete che comunque impugnano armi comunque diverse. Sì, infatti manda pure... Eh, esatto, esatto. Manda avanti così si vede. Anche qui se hai giocato di Onsouls capirai che sono stati ispirati dai mangiauomini. Quelli che sono i gargoyle del 3 e 1. C'è che non hai mai visto una cosa così buggata? Sì, è completamente buggata. Sì, io in streaming sono stato sei minuti con loro che scendevano e si rialzavano in volo e io stavo là e dicevo ma non mi picchiano e non picchio loro. Cosa sta accadendo? Esatto, no, no, sono sfortunatissimi purtroppo. Sta presentazione per me è devastante. Bellissima. È bellissima. E tra l'altro ha pure un moveset abbastanza interessante. Non particolarmente complesso però il moveset è particolare comunque. il fatto che saltano, si muovono, hanno uno swing veramente lungo quindi devi comunque o pari in questo caso e dopo tot HP appare il secondo che in questo caso è stato in grado di essere sconfitto esatto come coppie di boss prima che si aggiungessero diciamo come addizione. Però questo è diverso il danneggiato gli manca la coda io la cosa che dico di questa di questa boss fight è che vedendola da qua dire vabbè è una cazzata. No, è un giudatore che gioca la prima volta e si trova qua. Ma c'è anche una componente di DPS check comunque in base a quanto danno fai puoi trovarti in una situazione diversa se hai un'arma lenta se hai un equipaggiamento che fa poco danno la paghi cara. Eh esatto che è quella la cosa ti dice ti comincia pure a dare un'idea sul vai a farmare potenziati cioè vai al falò vai a uccidere i mob torna al falò rivai a uccidere i mob e continua così pure per cercare o magari ti dice cambia zona vai al gentino nero in questo caso che potrebbe essere anche un'altra opzione perché la cosa più bella di Dark Soul è il fatto che non c'è non c'è una strada da prendere sempre fissa ok? Sì effettivamente è tra virgolette a corridoio ma il gioco è pensato per farti muovere Dark Souls 1 Dark Souls 3 Dark Souls 1 quasi fino alla fine non lo è tu quanti boss puoi fare prima di Gargoyle è pazzesco cioè una decina effettivamente sì puoi andare veramente quasi ovunque a parte vabbè la tomba dei giganti la dovrei non puoi arrivare poi ovviamente fino alla fine però esatto però comunque puoi arrivare fino a tra l'altro le nebbie arancioni che bloccano i boss che stavi citando non è stata una cosa voluta dall'autore è stato il publisher praticamente From Software e Miyazaki non volevano mettere la nebbia arancione che bloccasse i boss endgame però gli è stato consigliato fortemente che stavano esagerando cioè un minimo di guida era necessaria poi si sono anche resi conto che il consiglio non era così sbagliato poi magari a noi dispiace sicuramente a me dispiace però il consiglio non era poi così sbagliato tanto che poi infine quando hanno sviluppato Sekiro hanno chiesto aiuto ad Activision per fare un tutorial perché altrimenti si rendevano conto che non erano non era il loro forte ecco carina questa cosa però non lo sapevo cioè veramente cioè quindi loro erano così matti da dire può arrivare fino a Nito Sers e tutto il resto era una sì 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 era malatissima era malatissima era un po' troppo sì esatto effettivamente però io ho un ricordo bellissimo dei Gargoyle per me sono la prima volta che fai una boss fight doppia la prima volta che l'affrontavo in un videogioco tra l'altro bello mi è piaciuta particolarmente anche perché ho il ricordo della della cattedrale della chiesa come uno la vuole chiamare e del collegamento che c'è col Firelink Shrine con il con l'ascensore che là è stato il momento in cui ho detto oh mio dio cioè ho fatto proprio oh cazzo cioè il gioco è collegato così cioè io sì bravo tutta quella tiritera e sono ritornato dove sono partito senza un caricamento e soprattutto senza una distorsione dello spazio tu hai uno a uno quelle altezze quelle ampiezze e ti muovi in questi shortcut creando una vera mappa 3D cioè è pazzesca è una cosa che era completamente inusuale Ico l'ho fatto non so se tu hai mai giocato Ico è un gioco molto pacifico molto molto poetico nulla di particolarmente action è più un puzzle però Ico che ha ispirato Dark Souls pensa un po' è un'opera nella quale ti muovi in un castello e il castello è il castello cioè non sono livelli o separati da caricamenti è quel castello la dimensione è uno a uno e non è cosa comune nei videogiochi io ti giuro la cosa che veramente io vabbè poi ci arriveremo dopo a parlare della città infame quindi non voglio tirare una spoiler perché pure quello secondo me è una cosa devastante però qua ho cominciato a capire ed apprezzare effettivamente Dark Souls cioè è stato il momento perché tu immagini io che mi ero fatto prima tutta la strada fino alla pinwheel poi torna indietro su Borgode non morti arrivi al demone toro arrivi fino a qui ti fai gargoyle così il momento che torno lì mi si è cominciato ad aprire un mondo cioè mi sono cominciato a chiedere ma questo gioco effettivamente cioè questa è una cosa che capita ora o la rivedrò in futuro ed è là che invece ho cominciato a capire che il gioco aveva una struttura non più lineare come ero stato abituato io per tantissimi anni di videogiochi eh ma non si è quasi più visto così eh eh lo so così 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 credo che sia stata una pazzia sviluppare una mappa fatta così sì Dark Souls 3 ha tante piccole mappe fatte così piccole tra virgolette ha dei richiami Dark Souls 3 sono molti richiami diciamo Dark Souls 1 però non è un unico ecosistema ecco ed è un peccato è come invece Dark Souls 1 per quello che Dark Souls 1 per me rimane l'apice anche se poi il 3 a livello artistico di boss fight sì no vabbè il 3 cioè a livello proprio artistico il boss fight per me rappresenta il loro è l'apice assolutamente sì però a livello di mappa questo gioco quando uno lo gioca per la prima volta rimane sconvolto cioè come comincia a capire tutto e quello che è successo io pure un'altra cosa su questa cosa delle shortcut i gargoyle erano i miei amici io e i miei amici dopo che ho giocato questo gioco ho cominciato a consigliarlo a tutti l'ho prestato poi al mio amico quando dopo che ho finito il new game plus 4 ok l'avevo smesso di giocare perché comunque era un po' eccessivo l'avevi preso bene sì sì no ero presa bene perché mi piaceva troppo rifarlo l'ho prestato a quel mio amico che mi aveva consigliato di comprarlo da là noi ovviamente gli altri amici a scuola eravamo oh no devi giocare sto gioco fidati è bellissimo lo devi provare loro lo vedevano e dicevano no sto gioco fa cagare sto gioco fa cagare sto gioco fa cagare devi far provare in un certo modo per far capire esatto io vado dal mio amico gli faccio senti io ti do il gioco ok io ti do questo gioco si chiama sorry questo mio amico io ti do questo gioco lui è molto scarso ai videogiochi però gli piacciono quindi è un amante ma un giocatore nemmeno quelli della domenica peggio ancora cioè non puoi capire ha proprio un handicap sui videogiochi non so che dire mi dispiace per lui spietatissimo gli ho detto una cosa se tu mi batti gargoyle in una settimana perché sapevo che era scarso se tu mi batti gargoyle in una settimana in una settimana che è tantissimo si è tantissimo gli ho dato gli dico ti do 50 euro cioè proprio gli ho fatto una sfida gli ho fatto una sfida tra l'altro lui ovviamente immagina trovarsi il suo gioco con la mappa così e tutto il resto sta a muoversi per questa mappa che panico può essere per uno che non è abituato a giocare ai videogiochi vi giuro su dio dopo una settimana non ci è riuscito non ci è riuscito ma si è innamorato del gioco divertendo anche lui un fanboy quindi in realtà ha vinto esatto tutti gli amici nostri hanno cominciato a comprarselo per giocarci anche loro cioè è stato come un effetto cascata io ora sono tutti dei fanboy di From Software c'è gente che mi ha chiesto la PS5 per giocare a Demon's Soul lascia stare ho creato dei mostri ho creato è gente che quando io avevo Dark Soul 3 in anteprima veniva a casa mia per guardarlo è solo per vedere l'intro cioè noi abbiamo fatto il pranzo tutti assieme cui avevo scaricato il gioco avevamo aspettato il momento per giocarlo a fare il pranzo e vedere l'intro di Dark Soul 3 e poi loro subito io vado a casa e aspetto che esce cioè così bello detto questo capra bel boss bel boss quello di prima sì 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 bella meccanica l'arena senza ogni arena in Dark Souls è diversa e questa è una cosa da valorizzare terribilmente e sono tutte esatto non solo a livello estetico ma anche a livello di struttura è una cosa molto importante molto personalmente è una delle migliori boss fight pure per i io ovviamente cioè Michele non possiamo parlare da giocatori che ci hanno ovviamente già giocato perché se tu lo vedi sotto quell'ottica quasi tutti i boss diventa uno stupro no certo li distruggi li distruggi li cancelli sì 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 lo so esatto a parte alcuni tu devi pensare alla prima esperienza ovviamente esatto pensando alla prima esperienza comunque in sé come sono fatti il comparto di tutto artistico per me Gargoyle sono un boss vincente di Dark Souls cioè ti creano proprio quell'atmosfera che dice impossibile no cioè qua non si può fare ma che è sto gioco è pazzia detto questo Caprademon e qua io l'ho io l'ho io l'ho Caprademon ti lascio parlare a te beh il Caprademon è tutto nella sua arena non a caso Discord lo sta streamando a 16 pixel quadrati però effettivamente devo riavviare aspetta aspetta no non sei tu è Discord non ti preoccupare sicuro perché guarda che basta che faccio proprio così ma guarda è proprio Discord non è il video tu sei perfetto il fatto è questo no perché ha laggato prima se mi dai un secondo ti riavvio la diretta su Discord va bene va bene faccio interrompi lo streaming vediamo vediamo e si dovrebbe fixare lo metto così così cosa voilà dimmi se vedi proviamo manda in play vai è leggermente Discord è veramente non il software in cui fare streaming ma è colpa sua non nostra quello che posso dire del Capra Demon è quello che possono dire un po' tutti nel senso che è qualcosa che mai ti aspetteresti di dover videogiocare in vita tua lì sì che c'è la settimana perché la creatura è di un'aggressività unica hai due minion cani aggressivi che ti chiudono appena superi la nebbia ti attaccano appena hai controllo sono già in attacco quando entri nella nebbia e l'arena appunto è piccola compressa è minuscola è minuscola ti incastri a colpire sbattendo l'arma sui muri e poi non sai che è opzionale quindi non ti aspetteresti mai di essere obbligato a doverlo combattere in maniera spietata e quando lo fai capisci che è un muro invalicabile perché lì sì che devi assolutamente eliminare Yad subito devi fare un controllo perfetto di dove muoverti e come persino in questo video in cui in teoria mostrano la boss fight si incastra nell'angolo viene colpito non si aspetta l'attacco non ti dà tempo di reagire cioè ti tiene sempre lì a combattere come un pazzo esattamente per me questo qui è per quanto sia come il demone toro alla fine è un mob perché parliamoci chiaro lui è un mob alla fine dopo diventerà un mob allo stesso tempo questo qua è uno dei boss fight più fighi da fare perché combattono un'arena super stretta minuscola claustrofobica dove la telecamera ti gioca dei brutti scherzi ti ritrovi due add che sono i due cani che tutti vediamo all'interno di Dark Souls terribili sono terribili mai così aggressivi come in Dark Souls Sur esatto cioè raga qua li vedete partire subito cioè tu entra boom partono subito incazzati come delle faine qua bam così boom astacco esatto subito chiuso nell'angolo cioè così questo qui è un boss fight fighissimo nonostante non sia un vero e proprio boss anche questo è un bob esatto è un mob ma allo stesso tempo è un mob fatto così bene che hanno detto oh ma lo sai cosa buttiamolo dentro come una boss fight hanno costruito l'arena hanno costruito un'arena e un'idea per renderlo aggressivo e in quanto GDR Dark Souls offre anche qua diverse opportunità di sconfiggerlo in maniera acuta ossia esiste la meccanica dell'equilibrio quindi se tu vai ad esplorare trovi l'anello del lupo o ti metti E con E è molto interessante anche un'armatura pesante tu hai abbastanza difesa da poter fare il tank anche per qualche preziosissimo secondo e nel mentre non viene stordito colpisce uccide i cani e stordisce anche lui e lì la battaglia è già stata capovolta è già più fattibile ti insegna pure il fatto di cominciare a cercare le armi no? cercare cosa vuoi utilizzare come giocare il tuo playstyle è un altro secondo me questo si può dire che è un'altra intro del gioco ok? perché all'inizio se tu lo fai e non hai comunque esperienza nel gioco lui sta utilizzando la spada della viverna che sta sopra al ponte si è fortissimo infatti ha la broken weapon si è veramente rotta quest'arma allo start del gioco della porti fino a quella praticamente in tranquillità e anche se in verità ci puoi fare di tutto però cominci a capire che il gioco devi provare le armi devi capire il tuo playstyle devi capire pure che ti devi adattare in base all'arena in base a come combatte il boss se ti dà tempo di attaccare se non te lo dà se ha degli add eccetera eccetera quindi questo io lo vedo come un secondo tutorial e questo boss lo è ma certo ti insegna l'equilibrio il muoverti in un'arena lo spacing è un bel boss questo per quanto non sia un boss cioè è un boss ma non è un boss esatto è un boss ma non è un boss come capita in alcuni GDR appunto in quella creatura gigantesca e aggressiva dell'inizio a un certo punto diventa una diciamo una creatura un bo guarda il fatto è questo dipende da come viene gestito a seconda del franchise e della casa produttrice però in Dark Souls non è quasi più successa una cosa del genere infatti è curioso perché è una meccanica che si vede spesso nei action RPG specialmente specialmente in Giappone questi boss diventano mostri in una zona avanzata anche però in numero più alto per 1,2,3 addirittura contestualizzarti il fatto che questi che hai trovato come boss fight erano più forti dei loro simili nelle profondità e quindi erano riusciti ad arrivare fino a là fino alla civiltà e tra l'altro ho una chicca per te qua cosa? credo che tu lo sappia proprio il nome del fatto di quanto verticale io sia in queste studi e avventure sai che il Capra Demon è possibile con qualche furbizia di telecamera è possibile lanciargli per esempio bombe o escrementi velenosi oltre la nebbia a distanza per sconfiggerlo senza entrare dentro la posfa che cazzo dici? si può fare ma aspetta cioè è una cosa voluta? allora no o devi fare qualche parkour particolare? non serve fare parkour particolari ma non è neanche una cosa voluta è una cosa molto semplice la motivazione perché questo è possibile Dark Souls ed è uno dei suoi pregi e privilegi da giocatore nei nostri confronti più grandi è un titolo programmato in modo grezzo è grezzo non ci sono tutti i muri invisibili ovunque non è tutto guidato con la manina che impedisce il giocatore di essere un fantasista tu puoi non essendoci in pareti illusorie in cima alla boss fight sopra l'arco di pietra che ti nasconde un po' quello che è con la nebbia l'arena se tu miri verso l'alto magari col binocolo e prendi questi oggetti velenosi o le bombe e con la giusta traiettoria vai a colpire la creatura in attesa con la intelligenza artificiale spenta dall'altra parte la puoi avvelenare o uccidere direttamente scusi e che succede quando entri nell'arena nulla quando la creatura muore ti appare boss sconfitto ti dà il drop e la nebbia scompare io personalmente una cosa del genere è una figata esatto la adoro è bellissimo per me non è questo qua un glitch di quelli che rovinano no 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 nessuno potrebbe esatto no no è un è un pro assoluto di quello che è lo stile l'anima arcade di un titolo che dà tutto in mano al giocatore è ovviamente molto difficile sia pensarci che anche solo riuscirci potresti sprecare 30 bombe e non colpire niente ma quando capisci la traiettoria giusta lo fai e funziona si si sta cosa sta cosa è fighissima non la sapevo mi hai aperto bellissimo sai chi sto seguendo io nell'ultimo periodo vai non so se tu lo conosci Zully the Witch io sto seguendo nell'ultimo periodo ho scoperto Zully the Witch con i suoi video e sto impazzendo allora cerca anche Bonfire VN Bonfire VN me lo vado a seguire Bonfire VN prima di andare a letto vai vai Bonfire VN Bonfire VN ok trovato iscriviti vai mi scrivi pure a lui perfetto vedrai no io io sono rimasto estasiato dalla ricerca che c'è di questi dataminer sul gioco e di quante cose vai a scoprire di creature che potevano essere boss o di cose grafiche che tu vedi che potevano essere boss cioè mi è capito la roba di Dark Souls 2 che ci sono rimasto per quanto Dark Souls 2 non mi sia piaciuto tantissimo comprensibilmente a parte il pvp però ho scoperto delle cose incredibili se vi piace Dark Souls o comunque tutto il mondo From Software questi canali fanno vedere delle cose che apprezzate ancora di più il gioco perché capite il lavoro che c'è dietro è smanettare a noi piace un sacco esatto ma veramente cioè capisci cosa provano cosa si mettono a fare cioè mob che in verità erano boss ma poi erano troppo sempre e ho detto vabbè famo i mob esatto la Firewish animazioni sì sì come erano magari mancano dei dati ovviamente è certo ovvio perché è cat content però eh ma personalmente è molto bello perché di far capire come lavorano loro no infatti è un dietro le quinte un andare oltre la cortina di ferro che adoro adoro questo boss per me è un boss super è bellissimo per me questo qui rappresenta Dark Soul perché scleri come un matto all'inizio con i cani e lui che ti mina così non capisci dici come cazzo faccio scopri anche il valore di uno scudo è bello è bello questo boss è bello è bello è bello poi dopo diventa una steamrollata incredibile più avanti quando ci rigiocate quando fate il new game plus lo demolite proprio però all'inizio sto boss è veramente bello lo ricordi che è un palo in culo per me lui è un palo in culo è simbolico sì 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 un palo in culo è simbolico ovviamente non è la Frida Kahlo ovviamente andiamo avanti con il prossimo boss tra l'altro forse sarà proprio il gaping vediamo un po' no la farfalla della luna padre di dio sto boss che brutto è brutti sto boss ne parliamo veramente poco te lo dico perché è un boss orribile altra altra creatura che diventerà una diciamo entità chiamiamola entità comune in un'ambientazione futura ed è legata tanto all'arena quanto all'idea di farti capire che a volte bisogna attendere perché adesso lui è un incantatore sta castando devi schivare aspettare che si riposi mangia il muschio sicura non è una bella boss è abbastanza sterile nella mod di daudero fascis questo diventa una bella boss si cambia parecchio ti aggiunge il golem esatto no vabbè allora sicuramente un premio alla varietà ci vuole perché dark souls è estremamente vario nelle sue boss questa è una cosa preziosissima che va assolutamente valorizzata però tendenzialmente questa è una boss fight che una volta che sai che puoi evocare un npc se sei umano beatrice in fondo alla torre che te l'ho b-shot la evochi non ho mai evocato nessuno lo sai è interessante farlo con un npc io ho sempre scelto dopo la mia prima avventura diciamo in dark souls 1 di non evocare mai nessuno quindi giocarlo sempre in solitaria mi piace molto anche a me in questo condivido e personalmente molti boss sono una vera sfida così fatti in singolo diciamo ma non solo sicuramente diventano una sfida però riesci anche a comprenderli meglio cioè si muovono in maniera corretta solo contro di te non cambiano target non impazziscono è molto bello è molto bello però personalmente questo boss è uno dei peggiori io lo considero perché è uno dei pochi boss che ho fatto first try ma non solo è anche un boss in cui hai tante finestre in cui non succede nulla si sta qua così e te lo guardi esatto si aspetti che si stai Alice guarda 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 il file guarda le cose il pilgrim il pilgrim guarda la farfalla nanananana si è così qua si fai la schivata al momento giusto non fa danno oppure hai attacchi a distanza frecce incantesimi piromanzia poco altro però sicuramente come hai detto tu il trofeo alla varietà glielo si dà perché un mob che è prettamente volante che quindi non è attaccabile se non avevi un arco o una balestra o delle magie o bombe è particolare cioè nel senso non sei abituato io almeno che ho iniziato con spada e scudo per me ma poi vuole anche essere una dimostrazione di come queste creature in questo caso nella storia siano fortemente se non unicamente magiche quindi non vogliono fargli fare attacchi con la lancia che ha sulla testa non vuole utilizzare la coda come pugnale è fatto apposta ebbe lì si passa a Sif allora questo o strana strana scelta ok lo puoi raggiungere lo puoi raggiungere da qui però ok vabbè vabbè ma sta facendo tutto il giardino nero esatto sì 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 personalmente questo è uno dei boss più stilosi che ci sono sì vabbè non abbiamo dubbi assolutamente la cutscene che è devastante secondo me questa cutscene e ce n'è una versione alternativa se fai prima la DLC ah è vero è vero è vero questa cosa perché poi l'avevo rigiocato più avanti quando uscì su PC perché io lo giocai su PC però il DLC non più su console non lo giocai tanti anni dopo nel 2023 pensa rigiocai 13 no no io giocai nel 2023 nel 2023 che cazzo ho detto a 23 anni scusa mi ho dormito 3 ore no no tranquillo tranquillo stavo stavo per scoprire un'avventura se usciva il remake di Dark Souls da due anni ero felicissimo ero pronto scusate ho volato avevo 23 anni e ho giocato a 23 anni la remastered con tutti i DLC eh e ti giuro su Dio che mi ricordo perché andavo all'università me lo ricordo benissimo che avevo bisogno di staccare dai tornei che stavo facendo ero in off season avevo bisogno di riposarmi e come mi sono andato a riposare? scaricando la remastered col DLC beh per me questo boss è bellissimo pure per la sua lore che è veramente sì ma scherzi ma il suo racconto la sua storia il suo ruolo meravigliose è importantissimo per l'ecosistema anche emotivo di Lordran e dei suoi personaggi i suoi eroi anti-eroe io vediamo la cutscene perché è spettacolare questo spadone esatto qui ci si trova dinanzi a una tomba gigantesca che è l'arena esatto con tutte queste spade tutti coloro che hanno cercato di ottenere qualcosa da questo luogo esatto di sconfiggere Sif e poi perché cioè è quella cosa anche esatto questo boss per me è uno dei migliori boss per quanto dopo che lo fai capisci la sua semplicità sì però esatto come stai per dire sono d'accordo è vero se lo capisci comprendi la sua semplicità ma ha delle mosse talmente inusuali per quello che hai vissuto fino ad ora che comunque le prime volte è un bel muro perché non è gli vai sotto e meni devi arrivarci sotto esatto e ha delle mosse molto particolari away si muove tantissimo ha una sorta io non so se chiamarla una sorta di fase 2 in cui comincia a saltare molto di più almeno nelle volte che l'ho fatta io no in realtà non ha tanto una fase 2 tanto quanto probabilmente in quei momenti ti avvicinavi a certe distanze che attivavano più volte lo stesso attacco la fase 2 è quando zoppica no no io lo dico perché non lo so infatti l'ho detto una sorta di fase 2 perché mi ricordavo questo salto ogni volta sempre in continuazione me lo faceva dietro era devastante è per spacing esatto però mica qua bisogna dire quanto è bello la parte finale quando ha poca vita che arranca senti la sofferenza di questo boss infatti è la prima volta l'ultima in realtà in Dark Souls in cui una boss fight arriva ad essere in debolità anche esteticamente questo ti permette di comprendere come Dark Souls non sia esattamente il classico dungeon crawler cioè ti vuole proprio buttarli a far capire aspetta sai cosa stai facendo hai capito che cosa sta succedendo puoi pensarci meglio no ed è bellissimo infatti per fortuna sta combattendo ancora con quest'arma che qui è diventata già più debole che non la sta distruggendo esatto e quindi forse riusciremo a vederlo soppicare però la cosa bella pure di Sif secondo me Michele è il fatto che ti dà quest'anello che tu non capisci personalmente all'inizio quando mi ha dato l'anello io ero là che faccio ma che serve che ci faccio cioè cos'è sta roba io sono rimasto là in piedi dicendo ma è cioè tutto qua cioè non capivo forse qua sta si qua sta arrancando ora manca ancora un po' manca ancora un po' non era quello il movimento perché da sotto sembrava la testa più lenta si no lo so lo so è un'impressione che fa ma dagli ancora un po' di bot se riesce a dargliele sta vip arena musica cazzi si la musica la musica è veramente speciale perché ti mette di nuovo quella malinconia è un po' di empatia per una storia che ancora non conosci d'altronde questa creatura ecco ora eccolo eccolo che è ferito esatto anche i suoi attacchi diventano inefficaci cade a terra si attacca non ha più la forza di girare la spada come puoi notare e lui stava difendendo sia il ricordo sia l'artefatto che aveva ottenuto il suo padrone per una storia abbastanza drammatica che un pochino rivivremo perché il suo padrone è una delle boss fight ma io personalmente questo qua è uno dei boss più belli lo è personalmente lo è perché allora qua una cosa che molti non capiscono di Dark Soul la cosa bella di Dark Soul è che non c'è una narrazione diretta che ti spiega quello che accade quello che è successo quello che andrai a fare e tu ti viene ordinato di fare qualcosa e tu lo esegui ok senza se senza ma come un automa la cosa bella di Dark Soul è che all'inizio io l'ho trovata una cosa negativa all'inizio io l'ho pensato fosse una cosa negativa e da là capisco pure l'anima della scoperta no è quello è il fatto che tu poi se sei un vero un grandissimo appassionato molto più di quello che sono io ti vai a ricercare tutto vai a cercare tutti i collegamenti perché il gioco viene narrato non solo tramite i discorsi tramite le cutscene tramite i discorsi che tu puoi parlare ovviamente con alcuni personaggi e puoi interagire con loro ma anche attraverso gli oggetti e scopri un mondo che è più vivo di quello che sembra o che era forse più vivo di quello che sembra tu arrivi a interagire nelle ambientazioni arrivi a tutto finito le creature sono ormai l'ombra di loro stesse il mondo in rovina e la storia è già conclusa tu affronti l'avventura partita finita ed è quello cioè io quando ho scoperto all'inizio Vatividia perché non trovavo niente qui in Italia io quando ho scoperto Vatividia mi si è aperto un mondo cioè io ho scoperto che Dark Soul era ancora più già lo consideravo un gioco incredibile mi pare che ero al New Game Plus 2 se non sbaglio e l'ho cominciato a dire sì però cioè perché si chiama così perché c'è sì cioè a un certo punto me le facevo due domande per carità è bellissimo mi ripiace la sfida di livello più alto però cioè perché qualcosa e là lo sai che vuol dire le nottate passate con 3, 4, 5 video di fila quindi parliamo di 40, 50 minuti di video l'uno che vabbè tu ovviamente lo sai però perfettamente però capisco esattamente cosa intende è per uno che magari comincia si avvia per la prima volta in questo mondo ti si apre ragazzi veramente cioè la testa ti si apre e comincia a capire tutte cose sul gioco che dici no vabbè non ci posso credere cioè rimani rimani stupefatto ed è per questo che Sif personalmente è tra i migliori boss di tutta la saga sì Sif è meraviglioso Sif è un simbolo di Dark Souls assolutamente riconosciuto da tutti tanto che se ci sono statue dell'opera sono spesso su Sif e Artorias quindi ecco ci devo pensare di farmi una bella statua Artorias e Sif assieme lo sai è bella ci devo pensare per casa metterla lì che si vede perché comunque vabbè poi Artorias a me sono diventato un fanboy più avanti Artorias è Artorias e Guts fondamentalmente di Berserk poi molti non lo sanno ma chi ha letto Berserk sicuramente ha visto tanti riferimenti di Berserk all'interno di Dark Souls proprio proprio perché sono sono proprio delle citazioni cioè sono dei veri e propri cameo che hanno voluto fare perché Miyazaki stesso credo sia appassionato sta morire molto molto era anche amico di Miura davvero ah non lo sapevo questo si sono conosciuti si 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 sono conosciuti ci sono tante dalle armi ad alcuni nemici per chi ha letto Berserk lo sa questa cosa e io ho letto Berserk ho cominciato a leggere Berserk dopo Dark Souls e personalmente ci era bello di oh mio Dio ma questi sono sono come si chiamano gli scheletri quelli là che erodiano che gli scheletri come i Bonewheel i Bonewheel giusto quando vedevo i Bonewheel perché si vedono in Berserk ci sono i Bonewheel cioè ci sono esatto per dire assolutamente sì comunque andiamo avanti questo penso c'era veramente poco da dire su Sif cioè era proprio era veramente il top cioè abbiamo detto tutto in un secondo perché il gaping può meritare qualche chiacchierata perché questo è quello di cui tu parlavi prima quello che ti ha convinto ad acquistare Dark Souls che poi è un boss posso dire è un boss di merda questo lui è un boss sia bellissimo che di merda nel senso che il combattimento è una merda può far poco però scenograficamente guarda che cazzo esatto è incredibile allora a livello di combat è molto banale ha due cariche due pestoni è brutto anche da combattere ha un po' la trappola che se evochi qualcuno diventa più difficile perché sono completamente incapaci dell'intelligenza artificiale di affrontarlo però drago vagina per un motivo esatto però annuncio tra 3 e 2 e 1 mortacci esatto abbiamo tempo per parlarne ha delle meccaniche interessanti piccole cose che poi verranno riprese nei sequel soprattutto a partire da Dark Souls 3 per in realtà ingigantirsi tantissimo in Elden Ring probabilmente c'è la distruzione tra l'altro c'è la distruzione ma c'è anche il fatto che ha punti più deboli di altri la testa la piccola testa serpentina sulla cima del collo è più fragile del resto del busto e oltretutto è possibile tagliargli la coda per ottenere un materiale unico ossia un'arma in questo caso perché non droppa l'anima droppa una chiave probabilmente che ha divorato ma la coda diventa un'arma unica esatto è questa è una cosa che poi ricordavi sempre per chi gioca a Dark Souls se c'è un boss che ha una coda provate sempre a tagliarla credo sia pure un cameo questa la Monster Hunter tra l'altro come cosa sì secondo me è bellissimo vederlo ed è un peccato per me inspiegabile immagino che sia stato il loro cercare di semplificare l'avventura ma è un peccato perché non ce n'era bisogno che nei successivi non serva a nulla non puoi tagliare le coda nei successivi Dark Souls ed è un gran peccato nei successivi mi pare che oddio forse in qualcuno qualche boss si puoi tagliare la coda sì in Dark Souls 2 ma non serve a nulla non droppi nulla cioè non c'è un valore non c'è una sfida qua invece quasi tutti i boss che hanno una coda droppano qualcosa assolutamente sì forse tutti mi sa tutti praticamente tutti hai Gargoyle il Gaping Dragon Scythil senza scaglie giusto Manus non ha la coda tagliabile molto vabbè allora boss fight semplice arena personalmente molto bella molto sì poi può essere in vaso acido il fatto è questo abbiamo a che fare con tanto quanto e per alcuni versi più di Scyth una boss fight iconica cioè tu pensi a Dark Souls e Dark Souls molti l'hanno conosciuto con il design di questo boss perché usciva erano come l'ho conosciuto io esatto era sulle riviste perché è spaventoso è qualcosa di veramente dark fantasy è enorme esatto è proprio no poi a me lo stile così impazzisco è per quello pure secondo me tanto del successo di Bloodborne perché sono riusciti secondo me dall'esperienza dei Souls a ricreare quell'universo Lovecraftiano no mischiandolo al fantasy scusa metto in pausa mi stavo perdendo il chiacchere però personalmente questo boss sfortunatamente avendo queste boss fight la boss fight così semplice perché mi pare che pure questo l'ho fatto al primo al secondo try sono morto solo per sbaglio è molto divertente combatterlo ma non è una bella boss fight sì però è iconica è molto bello sì è divertente è super scenografica lo è tanto è divertente perché devi stare lì davanti al busto per fargli sbattere il corpo per potergli colpire il collo è bello perché comunque è abbastanza grande da permetterti di fare tante diverse cose per affrontarlo anche a distanza è carino che abbia la meccanica dell'incantatore sopra diciamo i merli delle profondità perché se non sconfiggi quel mago lo potenzia quello ti casta magie esatto ti casta magie e lo e lo buffa pure quindi lì ti purga lì capisci lo buffa pure questo non lo sapevo lo buffa e ti fa fare un botto di danni in più non lo sapevo questa cosa sì 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 non lo sapevo a proposito di cose che potresti non sapere chicca su Sif che è scappata prima adesso ci ho pensato in realtà Sif ha una cosa simile a quella del Capra Demon a cosa mi riferisco Sif non appare immediatamente devi avvicinarti alla tomba quindi non è che come la nebbia equivale al Capra hai già la creatura caricata dietro devi avvicinarti alla tomba tuttavia se esci dalla partita o vieni sconfitto lì devi fare non dico la glicciatina ma devi fare un pochino il furbetto ma se fai un certo salto e superi un'area che non dovrebbe proprio essere calpestabile secondo l'idea del level designer superi le rovine che sono quelle che avevano dinanzi la porta argentata gigantesca che ti conduce all'arena e vedi Sif dietro la nebbia a quel punto se hai un arco lo puoi uccidere a distanza senza che reagisca che roba però queste cose non le sapevo ti giuro io non ho mai fatto queste cose al massimo me lo speedrun quando volevo fare un nuovo personaggio per correrci dentro è divertentissimo figo queste cose non le sapevo dovrei provare una volta a fare una sorta di speedrun però usando questi si si la exploit run guarda è divertente perché ce ne sono un po ed è intrigante sai quante volte faili tipo quei salti a voglia a voglia è bello per quel quando riesci non soltanto sei contento per esserci riuscito ma hai anche scoperto e imparato qualcosa è vero perché capisci determinate meccaniche che puoi utilizzare magari a tuo vantaggio più avanti ma addirittura in pvp a fare determinate cose tipo dei salti che arrivi in determinati punti per stallare io dark soul 2 ho fatto prettamente pvp per esempio una volta finito io mi sono dato ed è forse quello che mi è piaciuto di più è fighissimo il pvp di dark soul c'erano proprio le arene ad hoc comunque prossimo boss rega questo boss bellissimo bellissimo sono contento questo boss è veramente bello è come prima di vedere il video un piccolo preambolo è come ci si arriva il fatto che tu a questo boss e tu ci possa arrivare in vari modi anche sfinito ci puoi arrivare sfinito cioè io è pura follia tutto il passaggio di blight town della città infame è pura follia come è stata pensata e tutto il resto mamma mia è un'esperienza perché poi qui arrivi alla seconda campana giusto? esatto bravissimo arrivi alla seconda campana del risveglio qui arrivi alla seconda campana che quindi ti sembra tra l'altro essere la fine no? perché hanno detto devi suonare due campane e si basta sembra essere così dice beh ho finito bella è il nostro lavoro qui è compiuto è finito il gioco quindi c'hai anche questa impressione alla prima run e questo boss è bellissimo tutto dalla sua storia alla sua loro che è tristissima al combattimento all'arena a come ci si arriva in pieno stile dark soul mi viene da dire che questo sia il flame lurker di dark soul 1 mi viene da paragonarlo non per difficoltà no 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 non per difficoltà ma per tutto come ci si arriva sì sì lo è 100% tutto cioè è proprio mi pare una cosa una similitudine enorme e poi ora guardate cioè guardate come arriva tu vedi così che cazzo è una creatura arachniforma terrificante che però in realtà è una strega mutata da un'antica fiamma magica costruita da una madre che in realtà era diventata dea assorbendo il potere della prima fiamma cercando di riprodurne la forza e la forma ed è in realtà una boss fight stupenda anche a livello di design perché bellissimo adesso si sembra di combattere due boss contemporaneamente esatto perché hai il corpo con le zampe la bocca le sputalava e così via e lei con la spada del demone diciamo la sua katana infiammata che cerca di colpirti a modo suo e il bello è che ti insegna ad osservare questo scontro i movimenti delle creature per intuire le mosse che altrimenti sarebbero mortali se subite per esempio quando lei piega il corpo femminile sulla testa del ragno sta per esplodere tu devi imparare a leggere il movimento prima che sia troppo tardi ed è un tutorial a modo suo tra l'altro anche qua c'è la chicchettina perché durante questa battaglia all'arena come puoi notare è super non lo sai si alza si abbassa in collina ci sono le uova e così via su una un paio però su una in particolare di queste alture ai lati questo è un coglione ho appena spiegato che devi imparare a vedere il movimento va bene se sali su una di quelle alture puoi non essere raggiunto da quell'ag e anche qui colpirla con la freccia fuori dai suoi limiti di aggro solo che in quel caso se il ragno sputa fuoco sono cazzi perché comunque ti stucca lì si esatto oh questo è veramente un treno dunque guardate come l'arena si riempie di magma in una zona e ti costringe a cambiare zona dove tu magari trovi una sorta di comfort zone nel combattimento io mi ricordo che qua poi non ero estremamente livellato quindi non facevo come sta facendo lui 129 con uno swing e il combattimento è stato molto lungo e personalmente questo combattimento è super scenografico anche la colonna sonora è bellissima è profonda cupa è particolare nasconde una storia tragica la storia tragica perché poi c'è la sorella esatto ci si parla prima o dopo dopo vero giusto con la sorella dopo dopo sì sì perché tu prima uccidi quella che poi scopri perché ti voleva combattere era per recuperare l'umanità per darla alla sorella e farla sentir meglio che tra l'altro poi ricordiamo che la sorella la si rivede nel 3 decedura eh sì mamma mia quando io l'ho vista io c'avevo i brividi perché è una cosa spettacolare questo boss è iconico pure questo sì tantissimo questo è importante iconico bello particolare rispetto a quello che abbiamo visto prima perché sono io non so se il meccanismo sono due creature attaccate e quindi che fanno due cose diverse o no no è un'unica creatura con animazioni uniche sì ok quindi pensa con il mio immaginario no giocandolo che mi sembrava di combattere due creature contemporaneamente però il fatto è che appunto ti si riempie l'arena di lava e non puoi camminare nelle aree in cui ti muovevi prima quindi cambia la stessa barriera in cui puoi gestire la battaglia mano a mano che va avanti beh è figo è figo sto boss è veramente figo è veramente veramente bello e personalmente quando andate a scoprire la storia perché poi ti fai da qui arrivi alle storie delle streghe di Izalith quindi ti fai tutta la storia loro sì scopri che esiste quell'ana la sorella non mutata dalla fiamma del caos che ottieni come dialogo speciale hai una fiamma della piromanzia abbastanza avanzata vai ad analizzare le loro storie il rapporto che avevano come mai abbandonato la famiglia scopri cosa ha fatto la strega di Izalith tutto però senza esposizione diretta esatto è esatto è una storia bellissima ed è quello che vi dico io cioè arrivato a un certo punto ho scoperto la storia e mi sono innamorato ancora di più cioè quindi immaginate cioè è un crescere di amore no? che continua a salire quindi sto boss per me è proprio super promosso bellissimo l'arena tutto la scarica fulminante esatto esatto Ceaseless Discharge scarica infinita si chiama lui è il bambino della strega di Izalith io ti giuro che questo boss all'inizio non capivo niente è impossibile esatto cioè io questo questo boss non capivo come farlo e per puro caso ho scoperto quella vietta che va dietro la montagnetta per glitchare il tentacolo e ammazzarlo esatto infatti questa boss fight è schifosissima è pure opzionale tra l'altro giusto se non sbaglio no questa è obbligatorissima purtroppo è obbligatoria ed è veramente brutta cioè è ops perché ci puoi allora ci puoi arrivare perché dopo lo devi fare per forza quando riscendi allora 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 ti spiego questo boss è successivo a quell'ag però se vuoi renderlo opzionale devi utilizzare una speed round strat poco comoda ma è assolutamente non voluto ok non è assolutamente voluto lui è obbligatorio perché una volta sconfitto ti spegni la lava che ti conduce allo staisarith ah è vero si che vai all'altro demoni però infugato praticamente eh sì esatto il fire sage l'ultimo stregone del fuoco però demoniaco il fatto è questo è una boss fight brutta 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 perché come stai notando è un avanti and re con il braccio che cala e qualche onda d'urto di fuoco o glitchi le hitbox come hai detto prima del braccio attraverso la viuz che quindi ti permette di essere colpito meno frequentemente e di non subire le onda d'urto oppure perché se tu sbaglio ha un onda d'urto gigantesca io mi ricordavo che veramente mi prendeva chilometri no no è un onda d'urto gigantesca che sarà di almeno 30 metri ed è fatto apposta per insegnarti che l'armatura alla sua destra in questo caso in questa quadratura serve per aumentare la tua difesa del fuoco così che quell'onda d'urto non ti faccia male che è l'armatura della strega di Izalith tra l'altro esattamente è l'armatura delle figlie di Izalith quindi estremamente diciamo resistente al fuoco il modo più estetico e meno insultante di design perché è proprio brutta sta boss fight per sconfiggere scarica infinita è invece scappare farlo cadere di sotto esatto se scappi da lui e vai in fondo all'arena essendo lui un bambino che non perdonerà mai il tuo aver trafugato le vesta della sua sorellina o comunque di aver in qualche modo offeso lo suo riposo ti inseguirà fino oltre il limite in cui potrebbe camminare per poi buttarsi e cade di sotto esatto è vero questo l'ho visto solo in video non l'ho mai fatto come cosa però forse questa boss fight l'unica cosa bella è che all'inizio non capisci come batterlo no eh sì esatto l'unica cosa bella è che all'inizio non ti attacca lui reagisce e basta non è aggressivo è l'unica è l'unica cosa bella perché per il resto no è tra le peggiori non è riuscito non è riuscito benissimo no 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 è terribile gigantesco comunque pure questo anche lui gigantesco infatti vedi soltanto la parte superiore se ne parte l'annuncio che ora lo andiamo a schippare mudo qua ci fa piacere questa essence lineage 2 che senso sarà un altro mobile di lineage 2 che ti devo dire allora qua è cosa ah no sta andando avanti con il video che fa vedere che si scarica la lava esatto praticamente e qua spawnano poi tutti che no qui ci sono sia capra che taurus qui ci sono ok ce ne sono un paio ce n'è uno poi di un'interno sotto però si è pieno di taurus ci sono tipo 12 taurus e allora io qua non so cosa dire perché oddio cioè io qua ho due pareri che sono praticamente l'opposto è difficile a me l'iron golem piace un botto però è difficile perché cioè l'iron golem è esteticamente troppo figo si facciamolo vedere perché a me lo capisco ecco lui arriva e ti accoglie così boom lui ti accoglie così tra l'altro esatto la sua ascia ha quella abilità è bellissimo da vedere è un golem che è stato qui per chissà quanti secoli a combattere i chosen undead è pieno di tagli come potete vedere c'è la distruzione su questa torre esatto della parte più alta della fortezza di sen è allora la cosa a me personalmente è che il livello estetico è devastante da lui come si muove ti sembra proprio un golem e poi si sbilancia vedi ecco questa secondo me è sia una cosa bella che una cosa brutta è perché lo distruggi lo distruggi esatto lo distruggi ma a me la prima volta che l'ho fatto non sapevo questa cosa e menandolo è cascato di sotto da solo è fatto apposta no lo so però mi è cascato sotto subito eh lo so esatto se hai un'arma abbastanza forte da rompergli l'equilibrio lo sdreni cioè non lo combatti nemmeno è un peccato lui tra l'altro lui è la presa lui è il catch lui è il grappolo è lui che ti prende e ti lancia via sì però effettivamente questo è uno di boss col grado di sfida veramente non basso di più esatto è veramente basso e ho quindi questo parere contrastante smettete di parlare di bestie bellissimo dopo tutta la fatica che ti fai di scalare la sand fortress e arrivare qui mi sarei aspettato una sfida più ardua questa volta lui è la prova finale della torre di sen ma è estremamente facile per me è il castello si 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 è così tra l'altro questo pezzo questo video così io era bocca aperta in questo momento il mouse da qua che si trova bellissimo questo pezzo tra l'altro e ti porta da Norlondo a Norlondo è una grande sorpresa perché in un mondo così oscuro e così buio trovare la città del sole in questo modo e questa luce è inaspettatissimo è quello che contiene ancor di più si si e qua rincontriamo i nuovi gargoyle esatto gargoyle sul ponte ti legano narrativamente il fatto che fossero al servizio di questa leggenda di questo culto a proteggere la campana che ha permesso la torre di essere aperta che ha condotto i gargoyle o i demoni lalati a portarti da loro dagli dèi alla città dorata e tanta roba ah qui si passa subito a uh mamma mia non lo so perché manca cioè vabbè io vabbè ci può stare dai ci può stare partecipito cattivo di Connor sì perché comunque c'è una boss fight opzionale qui due in realtà le farà vedere dopo sì sì sicuro dopo ci sono c'è una parte solo di opzionali secondo me personalmente quindi il il golem di ferro è è bello come ci arrivi è bello scenograficamente però picca a livello di di combat cioè la boss fight non è appagante però qua ora ci abbiamo proprio invece il non plus ultra del gioco all'epoca all'epoca lontana di Dark Souls 1 era principalmente a livello di concept la boss fight preferita di Miyazaki l'Iron Golem davvero? sì sì non l'immaginavo io penso pure per la meccanica di farlo cadere no? a lui piace l'Iron Golem ah va meglio all'epoca adesso con tutto quello che ha creato chissà però qua arriviamo per me al non plus ultra gli scleri che ho tirato qua a farlo in solitaria perché qua mi pare puoi evocare qualcuno forse se non sbaglio io non l'ho fatto come cosa no questa cosa in solo è meravigliosa intelligenze artificiali abbastanza separate arena distruttibile spacing pazzesco sono resistenti in base a chi uccidi prima cambia la meccanica finale cioè una bomba assoluta ragazzi questo è devastante sia da come arrivano da qua da questa introduzione così di questi due cavalieri porca che tu dici ma che cosa è un cavaliere è esatto spugliando cioè capito rimani poi guarda come come entrano no cioè l'entrata così e tu dici e uno cioè doppia barra così bam subito super aggressivo e da una parte abbiamo Ornstein che è super aggressivo e veloce e da una parte Smog che è in tank diciamo cioè pare molto gigliere più sul tank sembri un cronista in questo caso perché effettivamente la battaglia è estremamente aggressiva velocissima e tesa devi tra l'altro e puoi farlo proprio grazie al fatto che Smog è estremamente lento intuire tramite i suoni quando sta per colpire e schivare alla cieca cioè è una cosa perché magari non riesci a tenerli inquadrati perché pure il gioco della telecamera di cui tutti si lamentano per me fa parte del gioco questo beh diciamo che è inizio che ti vuole mettere hai ragione perché purtroppo non è possibile risolvere il problema se vuoi mantenere il gioco com'è sì ci hanno provato ci hanno provato con al posto di zoomare di rendere invisibili delle texture sì quella è la cosa migliore che puoi fare però a salvo l'aumentare un po' la distanza con le creature più grandi cosa che dovrebbero comunque fare in questi casi più di tanto non si può perché se vuoi il controllo della situazione avere la libertà arcade di fare l'action RPG e lo strategic sword play ossia il combattimento strategico della spada e non puoi farlo è un limite drammatico che esiste così come diciamo che puoi trovare delle soluzioni per esempio al clipping delle armi cioè il martello se passa attraverso la colonna non può rimbalzare o creare un sistema attraverso il quale non danneggiarti perché è troppo complesso però puoi far sì che se la programmazione percepisce che l'arma è passata attraverso un materiale che definisce solido ti faccia meno danno quello sarebbe da fare però qui stiamo parlando di una delle boss fight mamma mia sclerano e si innamorano sì questa ti rimane dentro perché è qua è qua che tu dici vabbè è facile vado sull'1v1 certo come no non puoi infatti questo è un momento nel quale tra l'altro effettivamente in tanti hanno abbandonato Dark Souls davvero sì 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 Dark Souls players all'epoca cioè chi ha toccato questo gioco senza essere appassionato o appassionarsi davvero qui si è bloccato per sempre e l'annuncio ce lo ricorda no cioè io qua ti giuro mi sono innamorato perché poi quando lo io qua ho fatto proprio quello che è successo ho ucciso prima Honstein e ho voluto poi che credo che sia quello che fa il 90% dei giocatori no perché cerchi di mantenere la distanza da Smaug che comunque è più lento swinga pure più lento per quanto faccio più danno e ti concentri su Honstein che comunque ha pure dei leap dei charge e cerchi di combattere si ha meno HP meno HP è vero ha pure meno HP la cosa bella è che qua c'è pure un reset è la prima volta che c'è un reset se non sbaglio in Dark Souls sì sì della vita quindi si resetta la vita si potenzia in questo caso Smaug prendendo i poteri tra virgolette di Honstein sì il bello è che può succedere anche il contrario se si uccide prima Smaug Honstein diventa più grande si ingrandisce tra l'altro acquisendo più HP è molto questa qui per me rappresenta veramente pure questa Dark Souls cioè è quella chicca no? unica perché poi l'hanno provata a ripetere su Dark Souls 2 Dark Souls 3 cose simili però questa non si è mai ripetuta in questo modo diciamo che in Dark Souls 3 c'è una cosa simile c'è quella lì del principe dei due principi sì esatto c'è Lothric e Lorian che hanno questo tipo di meccanica però è solo la narrativa così come il re delle tempeste e il re senza nome sono creature che fanno questo sistema di condivisione di assorbimento dell'anima ma in combat non cambia niente in combat non cambia quasi nulla e come reset della barra della vita c'è praticamente soltanto il principe dei demoni e Fride ah è vero me l'ero scordato io li che gli pipistrellacci bellissimo il principe dei demoni cambia un attacco e un pochino altro in base a quale i suoi piccoli uccidi prima però non è proprio la stessa cosa ecco questa è bellissima però l'unico difetto che devo dire per quanto mi piace la colonna sonora è l'arena non è spettacolare no no è molto simile a quella dell'asylum demon hai le colonne un'arena quadrata rettangolare e via è l'unica cosa però a livello poi di storia comunque di lore colonna sonora bellissima con questo coro di sottofondo che ti accompagna per tutto il fight e poi soprattutto è la rivelazione che c'è dopo eh no quella è quello che ti suggerivo quando non ti aspetteresti mai cosa troverai da Norlondo in quello è incredibile è quello che poi scopri pure dopo di chi c'è dopo speriamo che lo fassi vedere subito ora il boss opzionale no qua ti fa tornare qua ti fa tornare indietro e ti fa vedere un esemplare più incazzato della sala devo fermare qua perché per quanto questo sia quello che abbiamo visto all'introduzione più arrabbiato come hai detto tu no qualche attacco nuovo all'incantesimo esplosivo sì 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 quindi però per quanto sia semplice questo perché tra l'altro ricordiamo che noi lo stray demon lo vediamo proprio all'inizio del gioco sì esatto proprio all'inizio affacciandoci nel corridoio all'inizio come apriamo la porta della nostra cella e vediamo tutti questi non morti che sbattono la testa al muro depressi negli angoli così tu guardi a destra e trovi questi finestroni che se non sbaglio è proprio ora sotto le chiappe dello stray demon e da lì puoi scorgere il demone che si muove all'interno di questa arena cioè questa creatura gigantesca che si muove però personalmente questa boss fight non è bella per l'arena come hai detto tu o la boss fight in sé è più per come ci arrivi il parkour che bisogna fare per arrivare al corvo esatto il segreto di rannicchiarsi nel nido il fatto che l'arena stessa qui sia una trappola perché il terreno ti cade sotto i piedi subisci danno da caduta e spesso e volentieri anche la martellata dopo è molto ansiogeno sì sì io boh quello che che dico di questo qui più che il boss in sé perché ora lo vedete è semplicissimo comunque c'ha qualcosa in più ma è lo stesso sì 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 è solo ha più range ha più danno ha molti più HP ma è debole al sanguinamento per esempio quindi puoi fare abuso delle sue debolezze di status katana time qua una cosa interessante che dicono in chat è come effettivamente Amorstein e Smough in base a chi uccidi prima capisci anche il loro carattere il modo in cui assorbono l'anima del compagno del collega o del sofferto diciamo alleato eh ma perché poi devi andare a svidire la lore eh sì esatto è quello che rimani vedendo la lore pure perché capisci l'armatura di Orstein per esempio cioè ci sono un sacco di ricordi perché Orstein è un ammazzadraghi sì cioè c'è tutto un mondo dietro che quello che poi lo dovete scoprire voi personalmente è bello che ve andate a ricercare le cose perché io ho iniziato la lore partendo proprio da dal boss finale quindi da Kill in tutto il resto mi sono fatto quindi tutto al al ritoroso e quindi piano piano come c'è a dire ma questo personaggio questo boss capito poi andando magari da Siegmeyer e così via sì quindi è quello dovete iniziare voi da qualche parte perché non c'è una vera linearità linearità scusami per scoprire la storia di Dark Souls no no infatti tanto quella cosa non si può tagliare vero no 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 questo è uno dei pochi in cui non si può tagliare la cosa in Dark Souls 1 esatto vabbè quando i ragazzi lo loccate in questo culate esatto a spam lo cancelle lo distruggi vabbè boss semplice già visto carina però l'idea di tornare qui indietro molto particolare come cosa si offre anche poi la bambola per raggiungere Ariamis eccolo eccolo mamma mia che figata che figata e qua c'ho una domanda prima che iniziamo ahah allora questo qua è un boss opzionale sì per prima cosa e questo boss è fighissimo perché capisci una cosa del gioco capisci che le divinità tra virgolette questi dei no sono ancora presenti sono ancora vivi no sì e stanno manovrando qualcosa stanno cercando di fare qualcosa perché uccidendo guendolin si chiama sì guendolin guendolin in italiano sì 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 ok guendolin e uccidendola avete visto c'era il sole nella cutscene che abbiamo visto quando ci portano questi demoni alati ad anorlo ah tu parli di guinevere parli della dell'illusione sì è guinevere guinevere scusami quando tu arrivi da guinevere e tu la uccidi sparandogli ovviamente frecce a questa gigantessa tettona tra l'altro è la prima cosa che notiamo tutti quando vai fuori poi dalla cattedrale è notte è notte non c'è più il sole cioè quello per me è stato un what the fuck incredibile quello è incredibile tu prendi consapevolezza che c'è qualcosa dietro perché fino ad ora quello che hai visto era un'illusione questo boss come four kings sono gli unici due boss che ho fatto solamente al new game plus al primo new game plus no i four kings sono obbligatori non puoi averlo fatto solo nel new game plus ah no no il four kings no scusami questo solo mi pare allora forse priscilla forse ah è priscilla pure no priscilla ci sono finito per caso ok perché avevo preso la bambola no esatto esatto e ci ero finito per caso interagendo cioè è totalmente a cazzo quella cosa però quindi l'era è molto nascosto è molto nascosto questo boss ragazzino la prima volta non sapevo dell'esistenza di tutto il resto io pensavo fosse comunque guinevi era una creatura no viva così non un'illusione e questo boss c'è una delle cose più fighe del mondo che io ti volevo chiedere se effettivamente è così ma sto corridoio è infinito? no cioè se tu corri dritto senza senza fare cioè a un certo punto raggiungi la fine e infatti guindolin non può più scappare a quel punto lo puoi osservare da vicino però ovviamente non è inteso che il combattimento arrivi così tanto a lungo arrivi a durare così tanto cioè non è davvero infinito ma per raggiungere il fondo ci vogliono bei dieci minuti perché alla fine è un'illusione esatto in teoria di lore è infinito cioè lui crea un'illusione per combatterti fino a che non ti sfianchi esatto bellissimo senti che colonna sonora è bellissima la colonna sonora di questa boss fight poi tra l'altro combatterlo al buio è molto bello è veramente figo qua capisci che non puoi più stare dietro alle colonne esatto non con il raggio solo con i piccoli proiettili e lui scappa ogni volta devi incalzarlo facendogli quanto più danno possibile prima della sua successiva fuga lui è diciamo l'ultimo figlio di Gwyn ed è stato l'unico a rimanere nella città degli dei guarda un po' madre di dio che figata che era sto boss io sono rimasto what the fuck quando ho scoperto che era un boss opzionale tra l'altro è un boss opzionale nonostante abbia un'importanza enorme a livello di storia cioè è una delle creature più importanti in assoluto ed è nascosto di nome di nome non tanto però insomma di ruolo e di fatto è nascosto ma io ti giuro questo boss è veramente bellissimo e l'unica picca è che veramente quando cominci a capire che devi correre dritto schivando i suoi attacchi magici e le frecce si è una gimmick è una gimmick è come Seaseless Discharge nel senso sono creature un po' prese anche da Demon's Souls come meccaniche ossia non sono veri scontri sono meccaniche sono grafici esatto una volta superato è fatta è l'unica l'unica cosa nota negativa perché poi a livello di lore a livello comunque di caratterizzazione è unico è unico nel suo genere però perde quando vai a livello meccanico è l'unica cosa che mi viene da dire però è vero a livello di arena e di come lo si raggiunge di come lo si scopre di cosa comporta ucciderlo e averlo affrontato che poi è il primo boss di forma non di forma umana ma comunque di grandezza umana quasi ovviamente sono sempre un pochino più grandi i boss si no lui è praticamente l'unico di dimensione simile alla tua insieme ad Artorias bene o male Gwyn ma si vabbè Gwyn è gigantesco dai beh si alla fine pensa sarebbe dovuto esserlo ancora di più però alla fine è design perché di base nello sviluppo volevano fare Gwyn più grande però hanno pensato che sarebbe stato scomodo combatterlo così e quindi hanno detto ok vabbè niente lo facciamo di taglia media la song di sottofondo è bellissima è stupenda si si mamma mia ce la farà dargli la botta finale yes olè andato comunque è molto bello perché è una divinità con questi serpenti che escono da sotto è veramente figo e l'illusione ovviamente si disfa una volta ucciso lui quella perlomeno del combattimento boom l'oltre c'è il mausoleo simbolico di lord Gwyn che nasconde un po' una storia quella del primo genito che ha abbandonato il regno ah ecco la priscina ecco la priscina questa è un'altra creatura non ostile anzi a dimostrare l'unicità e il racconto di dark souls abbiamo una boss fight che ti invita a non combatterla si e questo tra l'altro è bello pure come ci si arriva qui eh si il mondo dipinto qua non so perché ho avuto le feels di hunter hunter e grid island ah io non ho mai letto hunter hunter non ancora è molto bello molto bello veramente veramente bello però qua io ci sono capitato totalmente per caso perché praticamente facendo una tratta proprio sul ponte principale no mi pare con l'ascensore quello ruotando no si si la torre esatto ti collega a una cattedrale e se tu hai raccolto una bambola la bambola ti giuro la bambola insolita si si non mi ricordo dove si prende il giardino nero forse no si trova guarda avevi ben intuito prima la bambola si trova quando torni all'asylum col corvo ah è vero è vero perché è proprio super opzionale è vero questa cosa torni indietro trovi la bambola arrivi a un dipinto gigantesco lo tocchi e vieni trasportato qui dentro e non puoi uscire e quella è la cosa figa vieni bloccato qui dentro esatto però non puoi uscire vieni bloccato qui dentro l'unico modo per uscire è alle spalle di Priscilla e tu puoi non combatterla e andartene e ricordiamo che Priscilla ha una coda che si vede dietro e si può tagliare e si può tagliare per avere poi la sua la sua arma praticamente esatto con la coda ottieni il pugnale con l'anima invece la falce molto lei pensa tra le chicche che ti posso dare era originariamente un'eroina per la trama e avrebbe avuto dei dialoghi diversi era un NPC non una boss fight l'avresti trovata anche animazioni in cui è stesa e ti parla non lo sapevo questo figo questo boss è molto particolare perché ha una meccanica di tra l'altro guardate pure il discorso che comunque lei non vuole combattere esatto la cosa bella di Priscilla è il fatto che ha una meccanica quella dell'invisibilità che devi portarla a camminare sulla neve per vedere le sue impronte esatto e devi stordirne nell'equilibrio per farlo riapparire quando tu dai il primo colpo il personaggio viene teletrasportato tra una base penso di 5 spot e da lì cominciato a grarti ecco qua eh sì lei attacca nel mentre molto particolare qua mi ricordo la prima volta allora in verità è molto semplice sì abbastanza però però personalmente la prima volta che lo fai rimani un po' stordito sì perché non si è mai visto una cosa del genere la mia waifu priscilla piedini anime però è un bel è un bel fight esatto tutto pure il pezzo qui perché prima se non sbaglio c'è la oddio non la legione come si chiamano la dimmi come si chiama c'è una boss fight prima di questo che non hanno messo che vabbè non è una vera e propria boss fight a cosa quella dove ci sta l'ammasso di creature con gli scuri e le lance phalanx quella è demon souls non c'è anche c'è anche qui però qui ah ma non è una boss fight parli di quelli intorno alla statua di nelca sì ci sono questi ci sono queste melme questi piromanti sciolti questi guerrieri che sono adoranti intorno a questa statua che ruota una volta trovata una leva nelle catacombe e sì richiamano phalanx di molto particolare questa zona tra l'altro dove c'è pure il ponte con il drago che è un drago giusto se non sbaglio tagliato a metà sì 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 è un drago è un drago è un drago tagliato a metà prima proprio prima di arrivare a priscil è molto è un unico nel suo genere questa zona e questo secondo me è un buon boss perché è innovativo è veramente tanto innovativo ma l'intera ambientazione incredibile pensa è stata una tra le prime a essere sviluppate per questo ha un level design estremamente denso davvero? sì la torre e il dipinto di Iriamis è stata la prima area che hanno creato in dark souls qua di butti yes voilà e si torna indietro così bellissimo questo bellissimo questo boss è veramente bello ah eccolo il tuo primo boss eccolo qua questo boss allora vabbè qua c'è poco da dire su questo boss sì lui è il muro invalicabile se sei all'inizio impreparato un merdone se sai sì è un boss veramente semplice l'unica cosa positiva di questo boss se devo dire è la colonna sonora ah bella sì la colonna sonora è veramente bella per il resto è carina pure l'arena che sei in un gigantesco sarcofago aperto esatto sta studiando sta facendo le sue ricerche però il boss è veramente veramente no vabbè sì è un classico il necromante che crea dei doppelganger devi trovare quello giusto è a 10 hp è veramente semplice all'inizio magari quando comincia a clonarsi tipo sì ti coglia la sprovvista però sì e poi dopo lo capisce è stato il mio primo boss cioè quindi è fattibile diciamo ah sì 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 però qua è molto bello il fatto che entri nella parte effettivamente non morta no? di Darksoul nella parte nell'underworld se così si può definire sì 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 certo ci sono gli scheletri i necromanti che li in qualche modo controllano poi arrivi alla tomba dei giganti che erano i servitori degli dèi e arrivi fino in fondo e trovi il lord della morte cioè è il lich finale nito no? è abbastanza importante è fighissimo poi la tomba dei giganti è un esempio di qualcosa che nel gaming non c'era all'epoca o meglio non che non ci fosse mai stato ma non c'era stato per tanto altro tempo un'ambientazione che punisce la tua mancanza d'esplorazione cioè è buio pesto devi trovare una soluzione e il gioco non ti dice qual è esatto io da qua sono tornato indietro eh eh esatto io qua sono tornato indietro e sono andato alla a fare proprio la strega di Izalith che bello perché perché poi vabbè poi intanto poi lo vedremo ma c'è la parte di Soler no? Soler impazzito sì che bellissimo tra l'altro che prendi l'elmo che ti praticamente ti fa luce esatto così ti puoi muovere all'interno della tomba dei giganti senza problemi che tra l'altro l'ho scoperto casualmente quella cosa è mai normale perché qua mi sono proprio perso cioè c'è stato un momento quando prendi il il teletrasporto ovviamente puoi cominciare a muoverti tra i vari bonfire in cui ho praticamente cominciato a muovermi perché non sapevo come andare avanti nella tomba dei giganti cioè io mi sono bloccato perché poi c'è un bonfire subito dopo no? sali le scale vai sopra sì ce n'è anche uno particolarmente nascosto a un certo punto che viene utilizzato da un giocatore su 100 perché è superfluo però muoversi all'inizio è un trauma difficilmente dimenticabile questo qui però è un boss secondo me non è riuscito benissimo il fatto è questo è vero però avevano un problema di design questo boss lo hai dimostrato tu stesso con il tuo racconto lo puoi raggiungere all'inizio cioè non puoi renderlo troppo cattivo è proprio voluta come cosa è voluta che non sia una trappona sfida perché devi garantire a chi lo raggiunge non di trovarsi dinanzi a qualcosa di impossibile perché è raggiungibile come primo boss lui potrebbe essere il primo boss e quindi è vero che la ricomo un pazzo con tutti questi stregoni che evocano gli scheletri che tra l'altro bellissima cosa che fino a che non uccidi loro gli scheletri continuano a rinascere e a ricomporsi bellissima come cosa vabbè pure il primo incontro con Pacis che ti fa la trappola del ponte esatto la iena sì bellissimo effettivamente è vero cazzo non ci avevo mai pensato sotto questa visione che è una scelta stilista cioè proprio è per forza eh sì è world design è la prima catena al primo gameplay sì esatto appunto 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 avrei fatto apposta cazzo questa cosa però l'arena però è bella personalmente sì esteticamente è bellissima caratterizzatamente bene qua dove andiamo ah vabbè qui c'è il fire sage esatto allora lo sai che in verità questo boss è molto bello beh questo boss è bello perché è praticamente quello che ti permette di incontrare questa creatura se non sgami l'inizio nel backtracking ed è di lore uno dei demoni più importanti perché ti spiega come e lui è l'ultimo diciamo che e lui è il è l'ultimo demone intelligente mettiamola così lui è l'ultimo demone che castava incantesimi era uno stregone in passato ti dimostra come Isalith e i demoni fossero una cultura che avessero in qualche modo una storia esatto una capacità cognitiva importante nonostante tutto e lui in teoria è l'ultimo simbolo degli antichi stregoni del fuoco perché la piromanzia è arrivata dopo con la corruzione del caos bellissimo però personalmente è bella pure molto l'entrata no? sì non abbiamo una cutscene ma abbiamo un charge che fa il fire sage verso di noi dove vedi queste fiamme vedi gli alberi con i rami che si spaccano e cascano a terra esatto no è bellino però è giusto un peccato che non abbia delle mosse uniche solo sue sì copia copia diciamo riprende quelle copia 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 sono uguali identiche ma più espanse diciamo perché l'esplosione se non sbaglio è più grande questa ma guarda probabilmente è solo questo è vero? è lui è lui è lui è lui è lo stesso boss del demone vacante infatti è un peccato io ne approfitterei un secondo dopo che abbiamo visto sfortunatamente il fire sage perché poteva essere meglio di quello che è per prendere una birra voglio stapparmi una birra per continuare arrivo su let's go non è oggi che devo stappare la birra io ho il calendario dell'avvento con le birre oh che bello 6 dicembre ragazzi è tutta tutta Isalith è stata sviluppata con fretta Isalith a livello di sviluppo è un disastro un disastro io mi sono bevuto il green screen dangerous eccolo io spero che la entrambe le chat si stiano divertendo a vedere a sentire questi racconti a me sembrano contentissimi sono felicissimo anche io queste cose perché io molti vabbè abbiamo parlato di dark soul recentemente perché ho portato la mod il daudor of ashes perché ho detto ne parlavo proprio che dark soul per me è uno di quei giochi che consiglio quando le persone hanno problemi in relazioni amorose io quando le persone mi dicono mi sono lasciato dei problemi bababai faccio guarda fatti una cosa comprati tutti e 3 dark soul con dlc giocate esatto giocate perditeci in quel gioco e fidati che comincia ad avere una distrazione ti dai un obiettivo no alla salute alla salute assolutamente infatti al den ring lo aspetto in maniera molto attenta io tantissimo che sono un fanboy di georgia per martin pure quindi mi aspetto una lord dietro fotonica l'unica cosa che ti devo dire Michele che io sono spaventato sempre dagli open world gli open world mi spaventano come giochi però il fatto è questo Elden Ring non ha praticamente nessuna meccanica degli open world io ho visto solamente guarda non mi sono voluto vedere i gameplay del technical test perché io stesso non ho potuto giocarlo perché era a Milano e non mi ero portato la PS5 e non ho voluto di vedere i gameplay ho visto solo il video di 20 minuti perché quello che hanno fatto uscire perché non ce la facevo cioè l'ho visto un mese dopo quello un ottimo video sì sì cioè io di giuro ho detto me lo devo vedere voglio vedere che stanno facendo e vedere e ho visto tanto di Dark Souls 3 io ho visto tanto di Dark Souls 3 ovviamente con hanno ripreso pure cose da Sekiro e hanno aggiunto varie cose perché pure il combat system mi è piaciuto molto però io quando entro come è successo per Demon's Soul io Demon's Soul l'ho giocato completamente blind cioè tu lo sai che vuol dire le prime volte che cercavi i falloi in giro vicino al boss e non li trovavo cioè come uno scemo capisco sì 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 cioè venendo da Dark Souls perché non ci sono non ci sono non ci sono cioè è pura follia quindi me lo voglio giocare così voglio giocarmelo che devo devo esplorare devo provare devo sbagliare a fare la build e devo rosicare che ho messo dei punti che non devo mettere esatto non vedo l'ora fa parte del gioco quello io la prima build di Dark Souls 1 ero passato da Destrezza a Forza da Forza a Destrezza e poi sono andato Full Forza di nuovo ci avevo punti messi in po' ovunque assolutamente ma ma succede io avevo livellato resistenza cioè è così è così fa parte del gioco sbagliare però il gioco non è impossibile ed è quella la cosa bella io come dico sempre Dark Souls non è un gioco difficile perché molti lo vedono come un gioco difficile no? complesso che ti fa incazzare Dark Souls è un gioco appagante ogni volta che tu superi una sfida ti dà il senso di esserlo esatto cioè per me Dark Souls è quello cioè io lo vendo sempre così come gioco lo vendo come il fatto che tu hai un obiettivo da raggiungere e una volta raggiunto ti appaga un sacco e ti mi trovi davanti uno magari più difficile eh sì ed è quella la cosa bella ed è per quello che io ho ricercato un sacco di Souls like e tu giuro l'unico che mi ha riuscito a far giocare veramente tanto è stato solo Dragon's Dogma perché alcune boss fight sono veramente follia pura come se le sono inventate tipo il grifone per esempio quella è pazzia perché non riuscivo a farlo scendere io conta quindi immagina le pazzia stare lì 10-15 minuti e poi se non dava esatto sì 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 che arrivava tipo il giovedì mi ricordo solo il giovedì c'era tipo solo un giorno alla settimana veniva vabbè lasciamo stare parliamo poi di altro vai 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 continuiamo comunque fortunatamente il first age non è proprio è andato purtroppo no siamo un scadalist che comunque è completamente casuale perché dopo il fire sage non c'è proprio Nito ma Nito in realtà è uno dei quattro end game bosses e lui sì che è costruito nella sua semplicità di moveset in un'arena particolarmente tecnica perché hai gli ad piccoli gli ad grandi resuscitano se non hai un'arma divina e questo è anche la giochina cioè il giochino del questo io non lo sapevo ho saputo quando quando sono andato a sentirmi la lore che spiegavano anche questa chicca di questo trucchetto esatto ecco infatti guarda un po' il furbone ha una mazza divina perché se tu hai una mazza divina puoi andare dagli scheritri una volta sconfitti non si rialzano più allora l'idea della boss fight è molto bella l'arena pure mi piace con l'acqua il fatto che lui ti può colpire anche se non è vicino a te è particolare però tra forse i allora personalmente tra i quattro lord lui forse è tra i peggiori io so che tu metteresti la strega di Izalith come tra la peggiore no allora tutti i lord se escludiamo i i quattro re sono proprio boss fight bruttine la zraculla non voglio parlarne la zraculla è in vera e conda però voglio poi dire la mia su quella io sono sì 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 no perché ovviamente il sistema puzzle il sistema puzzle è assolutamente appagante lo capisco però hanno proprio sbagliato lui sì lui è incredibile a livello artistico è veramente bello con questo mantello così tutto questo agglomerato no che poi riconosci qual è la sua vera e propria testa principale sì 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 comunque ha un senso no in quello che vedi l'arma poi sua io l'ho voluta tantissimo era una di quelle armi che ho voluto craftarmi assolutamente la spada di Nito pure le mosse sono molto particolari come per esempio questa way che fa il miasma di morte esatto sì sì che tra l'altro è pure una sorta che non è l'abilità della spada giusto o è una magia allora il miasma quello tu non lo puoi riprodurre però c'è la magia miasma sì 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 c'è la piromanzia miasma non fa la stessa cosa però bene o male l'effetto sarebbe quello più che altro la spada la puoi riprodurre con un miracolo che è proprio quello della covenant di Nito altrimenti la lama la puoi trovare proprio entrando in comunione con il dio della morte il primo morto Nito è anche una rarissima presa lui tra l'altro perché ti può prendere con la mano e assorbire l'energia vitale lui comunque è fighissimo non l'ho mai visto è rara guarda qua guarda qua quando sparisce il mantello esatto il suo potere che si esaurisce è bellissimo è veramente bello chissà però tra i quattro lord forse è tra i peggiori sì ma i lord sono stati rasciati purtroppo lo sviluppo è stato molto molto accelerato qua ed si vede è un peccato un gran peccato sì forse Seth può dare delle difficoltà all'inizio se non lo capisci i quattro re e loro sono il dps check di Daxos figlio questo boss è possibile entrarci solo con un artefatto magico nell'oscurità più totale sono in realtà creature che possono spawnare abbastanza all'infinito finché hanno HP c'è un limite ovviamente ma e sono terrificanti belli perché comunque bellissima l'arena pura a me piace tantissimo questa arena così buia che ti perdi all'interno e la cosa bella è che questo combattimento loro praticamente come ha detto il buon Michele come se si moltiplicasse se così si può dire voglio proprio vedere come vince cioè lui li sta combattendo in maniera veramente veramente inefficace io l'ho fatto con la spada di Kuelag bello bravissimo sono anche deboli al fuoco voglio proprio vedere che fa cioè a quest'ora viene completamente spappolato vabbè no è abbastanza veloce li sta tankando ecco un modo per vincere in effetti è quello che sta facendo lui tankarle e spammare danno perché l'obiettivo è cercare di eliminarli il più velocemente possibile prima che spawnano gli altri perché dopo ti trovi praticamente circondato esatto veramente bello ma se era così grande la Weno me lo ricordavo l'onda d'urto si con Giuda loro sono super interessanti perché da una parte puoi colpirli anche dopo ma sta sta avendo un RNG sfigatissimo questo giocatore ok preso così mentre saltava però se lo merita il fatto è questo è che loro sono interessanti anche perché dimostrano di poter essere sconfitti in maniera diversa come tante altre creature ma più di altre loro subiscono la difesa se tu qua ti metti in armatura pesante o con pelle di ferro o pelle ferrea e vai giù cattivo con armi proprio belle quindi con tanto posa si esatto tu puoi sorpassare il DPS check senza sforzo sei completamente immune al pericolo non lo sapevo questa cosa lo sai è perché loro fanno molto danno però Dark Souls ha una meccanica che si chiama direct hit ossia se tu hai per esempio una labarda se colpisci stando attaccato all'avversario farai meno danno che non se invece sei leggermente distante così quello della punta esatto e i quattro re hanno queste spade molto lunghe la quale Elsa o comunque parte iniziale fa molto meno danno quindi se gli vai proprio in faccia e sei pesante non ti fanno niente ok ok non lo sapevo questa cosa figa cazzo bella bella questa cosa non ci avevo mai fatto caso ti giuro io ti ricordo che oltre la prima volta che l'ho fatti con la con la spada di quella che la seconda rama che mi sono fatta ho fatto una run molto più glass cannon dove praticamente giocavo mi pare con lo stocco a quello di richard incantato quindi ovviamente in centavo entravo qua e tiravo un bordello di danni devastante cioè lì liberamente li quadrisciottavo cioè veramente una volata quattro colpi tiravo giù uno però questo personalmente pure questo è un boss unico nel suo modo di essere se pure come ci si arriva pure tutta la boss fight il fatto che non sei four kings tu quando arrivi dici in che senso quattro ore eh sì esatto poi sono due poi sono tre poi sono quattro se non capisci all'inizio subito però un giocatore esperto di dark solo che comunque ha capito le meccaniche li demolisce in un secondo sì finisci questa boss fight in un secondo è vero è vero la demolisci però è molto bella rispetto a magari alcune che abbiamo visto prima no no esatto è bella perché è piena di possibilità è molto tecnica nelle schivate puoi farla no damage con attenzione è molto pulita salvo che ne spawnino loro hanno un'intelligenza artificiale che impedisce di interagire troppo aggressivamente con il personaggio giocante durante uno scontro con un altro però sono a volte abbastanza cafoni e si distraggono quindi succede un casino comunque a differenza quando si accorpano assieme esatto esatto è un disagio e poi questo è uno dei miei boss preferiti perché è veramente strano se non capisci come fai darlo all'inizio dove andare a fai darlo allora perché l'arena per come è strutturata lui è fighissimo è fighissimo perché lo puoi fare a pezzi è fighissimo perché lo puoi mutilare e trasformare in piccoli mini boss però il suo pattern di attacco e la telecamera sono un disastro sono un disastro lo so però dai quanto è figa questa arena quanto è punitivo questo fight no ecco sì ho capito cosa ti piace dai quanto è punitivo che ti dà una botta e voli nelle fiamme e prendi sì 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 no no è uno sclero questo è proprio dark soul questo è proprio welcome to dark soul bitch cioè è proprio così perché apparentemente sembra semplice apparentemente però basta una piccola distrazione che ti frega io per esempio lo portavo a destra tutti tutte le persone intelligenti lo portano a destra boss fight database è un po' particolare non so che cosa come sta andando ma è folle a fare il fight qua poi con l'intelligente artificiale che ha questo boss ha avuto giusto fortuna che avvicinandosi si ha smesso di dargli attacchi vabbè questo sarà uno scontro interessante ma qua vediamo è così guarda l'inquadratura ma una domanda se gli tagliavi la coda ti dava l'anello per passare sulla lava o lo prendevi dopo no 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 lo prendi dopo al 100% ma se gli tagli un arto lo ottieni comunque può essere la coda il braccio puoi farlo mamma mia io mi ero imparato a switchare in combat gli item sembrava un folle ah bravo mi piaci che correvo in giro col menu aperto perché comunque anche con il menu aperto puoi continuare a muoverti bellissimo guarda guarda quindi non serviva tagliargli la coda perché vabbè la prima cosa che facevo non avevo capito la cosa di tagliargli la coda in modo che se succede qualcosa almeno non crepo è quello che ha fatto lui adesso infatti se uccidesse la coda otterrebbe l'anello però sta pensando di focussare ecco qua ah e te lo dà diretto così non lo sapevo questa cosa si 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 se l'ha comunque cavata più che altro è resistentissimo questo personaggio non sembra ma ha delle difese altissime è un carro armato cioè veramente e qua ah beh eccola ti ascolto allora parla qua devo dire la mia vai questo boss è proprio lo spirito di dark soul perché anche se apparentemente è veramente semplice e stupido perché sfortunatamente è così questo boss per me racchiude dark soul già solo come arrivarci dal bonfire ti devi fare chilometri a piedi per arrivare da questo boss se ci muori se ci muori perché apparentemente è semplice ma questa qui non è la classica boss fight che abbiamo visto fino ad ora è forse la prima boss fight si no è la prima boss fight è unica forse in cui tu devi fare vari obiettivi si si è l'unica per arrivare poi ad ucciderlo e oltre questo il fatto dei movimenti no che fa il boss con questi swipe destra sinistra sopra sotto e così via i buchi che si vanno a creare all'interno dell'arena per farti cadere di sotto è in pieno stile dark soul cioè proprio te faccio cadere di sotto perché il tuo più grande nemico è cadere di sotto in dark soul un roll sbagliato la telecamera che fa un movimento strano e quindi ti parte il comando per andare di sotto sono cose che tutti noi abbiamo vissuto e poi dopo arrivi alla fine di questo boss è stato bellissima l'arena mi piace un casino su quella parte della discesa arrivi all'arena e tutto il resto è quando cavolo sta laggando di nuovo tutto cosa sta succedendo alla mia connessione io ti sento perfetto non so cosa sta succedendo la parte più bella secondo me è quando tu ti fai tutta la strada al suo interno ma che culo ha avuto infinito vedete qua che casca si aprono i buchi eccetera eccetera la cosa bella è quando tu arrivi sotto e alla fine il nemico è un cazzetto una minuscola larvetta che viene one shottata da qualsiasi cosa e poi per dire si è fatto un culo così c'hai davanti una cosa così gigante e il boss è questo qua è proprio pieno stile Dark Souls per me ti giuro eh lo so mi fai quello che vuoi però per me questo è proprio pieno stile Dark Souls so benissimo che tutti dicono che è brutto quello che hai raccontato è una bellissima interpretazione delle sensazioni guarda qua guarda qua si esatto esatto tu hai no è bellissimo come e cosa cerchi in Dark Souls è veramente tra l'altro un messaggio che il gioco implicitamente ti può far arrivare ma nella mia posizione che è praticamente quella di uno specchio perfetto neanche troppo distorto proprio uno specchio perfetto sono il tuo riflesso però speculare questa boss fight è tutto ciò che non è Dark Souls ti spiego lo so all'idea della creatura in fondo hai ragione proprio quel messaggio l'idea dello sconfiggere l'impossibile di essere frustrato dalla caduta è assolutamente ciò che percepisci a sense in tanti altri posti ho capito perfettamente la purezza della tua posizione ed è bellissima ma esatto ed è anche ovviamente esteticamente ovviamente imponente è stupenda non doveva essere così lo scontro comunque originariamente la creatura doveva essere più mobile però ha dei problemi che sono però facilmente evitabili sono stati nella fretta dei maledetti il fatto è questo c'è anche una storia guarda guarda ti spiego c'è una storia che non so se tutti sanno io faccio spesso un gioco con i ragazzi quando giochiamo a qualcosa è un meme non è mai serio però quando vediamo una parte di titolo una quest una mappa una boss fight particolarmente terrificante dico vabbè questa l'ha fatta l'ostagista ok esatto però anche se non era un ostagista l'hanno licenziato l'ostaisalith è stata fatta da un interno non da Miyazaki stesso ok è il level designer di Dark Souls è stata fatta davvero da qualcuno senza la direzione di Miyazaki è l'area l'unica area di Dark Souls 1 in cui Miyazaki non ha fatto il director davvero sì e lui se ne è ufficiale ma tutto all'ostizalith c'è tutto l'agglomerato che si vede è bellissimo però no no è bellissima no è bellissima è bellissima però Miyazaki non ha diretto l'enemy placement e quello che è il design finale quindi è un pochino il loro progetto non venuto cioè che non ha passato il quale di check diciamo che non so che cosa aveva da fare di particolare Miyazaki in quel periodo però diciamo che si è pentito di questa cosa la boss fight della cula del caos ha dei problemi che in teoria Dark Souls è diventato famoso per non avere ossia dici che il terreno crolla è geniale ma il terreno non può crollare randomicamente senza preavviso perché in tutte le altre aree hai sempre un input di quello che potrebbe succedere se stai attento e le manate della creatura hanno una hitbox doppia rispetto alla loro dimensione è vero è vero ti giuro è vero lo fai un sacco di volte ti devi fare tutta la frustrazione di tornare qui sì esatto e il falò che ti permette di arrivarci prima è segreto dietro un muro illusorio sono stati sono merde ah sì forse lo sai che non me lo ricordo questo falò cioè forse non me lo ricordo perché non lo gioco da una vita c'è un falò io ti do ragione comunque scusami ok io ti do ragione hai completamente ragione però lo ami è il mio guilty pleasure ho capito mi sento colpevole mi sento colpevole che mi piace però non lo so io ho capito quella stronzaggine no sì va bene quella stronzaggine che mi fa dire va bene me la collo ok perché effettivamente non è appagante come gli altri boss cioè pure hai visto basta che rolli non devi nemmeno attaccare le due parti quei due tronchi no che devi distruggere non è nemmeno tutto questo granché però personalmente io non riesco a dire che è orribile ho capito è una cosa mia questa è soggettiva poi lo so benissimo perché effettivamente se ci ragioni se lo guardi da una parte oggettiva sì ci sono delle falle però ci sei affezionato per la crudeltà sì è quello perché veramente ti butta qua in un cioè che rosichi no quando caschi perché ti si rompe proprio nel momento in cui ci sei sotto insulti quando magari come gli è successo a lui due volte di fila che è arrivato quasi a cadere di sotto sì non lo so sono queste cose che mi fanno mi danno questi vibes questo boss è per questo dai 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 manda avanti mostra ai ragazzi come si sconfiggio è la fine che è la cosa più brutta però è bello perché dici cazzo cioè guarda che infatti voglio vedere come lo raggiunge adesso che è il coraggio che deve avere oddio pazzo pazzo guardalo guardalo treno ci vuole coraggio a fare i salti su dark soul ricordiamo guardalo guardalo cattivissimo treno sì ma sì vabbè ma più culo che anima questo comunque però vedi capisci che una cosa del genere sbali poi guarda che vedi tutto sto massacro che succede io mi ricordo che all'inizio non capivo che devo fare all'inizio non capivo eh no certo ero lontano come lui io ero lontano come lui ma mia ma sì 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 è un culo col controller questo però cioè è proprio malato come cosa eccolo qua l'insetto questo è il nostro boss ragazzi questo è il nostro boss boom con un hp simbolico vediamo un po' cosa ti pesca dopo ormai sono curioso perché non è lineare ah sì altro boss non proprio bellissimo ah sì non è set ok no sì 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 il senza sky the scaleless lui c'è una storia bellissima lui è una storia incredibile il traditore della guerra d'antica cioè no no ragazzi davvero la storia di set andatevela vedere e non solo è uno scienziato da sabato tu l'hai fatta no tu l'hai fatta la sua storia certo cioè ragazzi andatevelo a sentire perché probabilmente lui è uno dei personaggi che adorerete è il sif è veramente veramente forte all'inizio personalmente allora come ho detto prima i quattro lord che sono i boss diciamo tra i boss finali per progredire nel finale della storia sono apparentemente molto 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 semplici però 7 è uno di quelli ma quali che cosa ha fatto che si è buggato così me lo stavo chiedendo anch'io si è buggato tutto non capisco che ha fatto guarda come va a cercare di tagliare la coda guarda che bravo guarda che bravo non c'ha fatto subito così però personalmente questo boss finali se lo puoi trovare un postico no lui non è scarso perché è facile è scarso perché anche in quello tosto ma difficile cioè è riuscito a tagliargli la coda attenzione mia spada preferita del gioco cioè è chiaramente ha livellato fortuna questo perché non può essere cioè guarda gli ha lanciato la coda addosso bellissimo quanto è bella la moonlight si la moonlight io impazzisco mamma io impazzisco veramente quando la rivieni in dark soul 2 dici la voglio che potremmo sbagliare in dark soul 2 la puoi riavere solo in new game plus vero? eh sì oppure se usi un ascetico ah no io l'ho usato solo in new game plus mezza l'ho presa esatto mentre in dark soul 3 la trovi da osairos il re consumato guarda l'unica cosa è è che questo boss ha un design pazzesco è bellissimo sì sì il drago tentacolare senza scaglie che utilizza cristalli che maledicono con questa carne viva no? che la vedi un po' sanguinolenta un po' che vedi le venne le venature però l'unica cosa che devo dire è la colonna sonora è veramente brutta questa è una delle colonna sonore è una delle poche colonne sonore che non rimane molto impressa cioè quando lo rigiochi più volte e quindi ci fai molto più caso rispetto alle altre perde un po' di pathos qui sì lui come vedi è uno scontro in cui hai questo grosso castellone che ogni tanto fa con uno d'adurto spammi gli attacchi in modo di scappare perché verrà colpito se hai abbastanza difesa contro la maledizione non subisci nessuna conseguenza negativa lui ne ha pochissima semplicemente un buco di culo un buco di culo enorme esatto io sono morto così oddio la pubblicità scusami mi ero perso a guardare ero immerso però personalmente allora qua la boss fight si la bocci a livello di meccaniche la colonna sonora pure però la storia eh sì esatto il personaggio il personaggio è incredibile a livello scenico no pure dell'arena è molto particolare con questi riflessi no poi la cosa bella è che ovviamente se giochi la versione normale di dark soul 1 l'effetto visivo non è così prepotente come ora no infatti esatto è molto meglio però all'epoca quando lo giocai io dieci anni fa per me era assurdo attenzione siamo nel dlc oddio qua le boss fight cambiano qui nel dlc le boss fight cambiano per sempre perché diventano un po' un incipit di quello che saranno in bloodborne aggressive veloci cattive ma con il gameplay di dark souls e il century grand guardian è un casino è un casino è bellissima è bellissima ha tantissimi attacchi vola lancia queste sfere elettriche sia in combo che unica quella è un'onda d'urto d'aria che ti permette di avere una finestra gli puoi tagliare la coda puoi stordirne l'equilibrio è bellissimo sì questo col dlc si è visto proprio un next step sì io l'unica cosa l'unica cosa però del diciamo del dlc e anzi in generale di dark soul che io dico sempre che il grande problema di dark soul è che non hanno mai fatto un drago veramente forte da combattere mi dir dark souls 3 è l'unico dlc che non ho giocato ooo fallo l'unico dlc che non ho giocato lo sai fallo allora ecco una cosa da recuperare dark soul 3 è vero non so perché l'ho giocato di tutti i dlc degli altri questo vuoi un drago e combatte dark souls 3 dlc the ring and city ok io ti guarderei io ti guarderei me l'avano già detto the ring and city è quella è quella comunque questa boss fight personalmente è un gargoyle 2.0 sì 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 è un ok reset qui si gioca così questa è la difficoltà del dlc e ovviamente qua questa è una vera sfida mi ricordo la prima volta che non ero abituato a questa velocità e a questo ritmo nessuno lo era è incalzante il ritmo qui ed è il primo boss che poi scusami questo qui non lo si ritrova da qualche altra parte che sono due sempre qui una volta sconfitto ok torni qua e ne trovi due me lo ricordavo questa cosa me lo ricordavo che a un certo punto impazzivi perché ne trovavi due questa per me è una boss fight super promossa che fa vedere che loro hanno hanno aumentato hanno capito dove cosa sviluppare esatto il moveset è vario veloce pausa pausa qua finiamo di parlare perché questo c'è qua il sanctuary è veramente una bellissima introduzione dal contenuto perché ti fa capire che non sono lì per fare more of the same bensì avanzare nel processo creativo anche di sviluppo delle creature in quanto movimenti delle meccaniche delle creature meccaniche esatto è per questo che Elden Ring nonostante sia molto simile a Dark Souls 3 offre qualcosa di più perché è comunque in avanti ma comunque la cosa bella che io ho trovato i DLC in Dark Souls 2 Dark Souls 2 a me i DLC mi sono piaciuti sì i DLC sono molto meglio del gioco Vanilla porco 2 ma anche le boss fight esatto i DLC hanno finalmente delle belle boss fight oddio magari Shulvalon così tanto però sì ne è buono lo è davvero e poi abbiamo i mostri abbiamo Alone The Fume Knight cioè quelle sono boss fight bellissime ma pure la mappa sì sì Leon Lois la mappa esatto le mappe finalmente ma anche l'esplorazione con backtracking della torre della nebbia quella è bella quello è bello quello è finalmente bello di nuovo sì sì comunque qua siamo arrivati secondo me a uno dei loro masterpiece perché Quora chiude come set uno dei personaggi che quando scopri la sua lore la sua storia beh che Artorias è molto più chiamato nel senso ci sono tantissimi rimandi che rincontri ed era io questa è una cosa che mi ero sempre chiesto ma Artorias lo vedremo mai lo combatteremo c'è la sua arma capito tutte queste domande che uno si faceva cioè abbiamo visto la sua arma così lo vedremo mai e qua c'è l'entrata in grande stile cioè guardare che entrata cioè completamente soggiogato qui esatto una macchina da morte è diventata cioè che cos'è che cos'è ma poi che lo combatti in un colosseo cioè come un giuello incredibile Artorias è il nuovo que lag devi imparare da zero guarda che roba guarda i movimenti mi piace troppo e qui qui hai dinanzi a te una delle esperienze più esplosive di Dark Souls i ragazzi della tua chat che magari non l'hanno mai visto rimarranno comunque colpiti perché tutto fino ad ora è stato comunque un colpo un colpo un attacco una schivata qui invece è un continuo lui non si ferma un secondo è aggressivo devi difenderti e attaccare ma lui attacca a sua volta e boh ma poi guarda il moveset com'è vario com'è rapido com'è movimentato non parliamo della storia che sgorga oscurità al braccio sinistro rotto ha lasciato lo scudo per salvare il suo compagno che poi nel futuro Sif lo difende come simbolo e ricordo nella sua tomba simbolica che sia c'è un botto di roba ragazzi la storia sua pure come set da andare a scoprire perché scoprite un personaggio incredibile io personalmente ho adorato poter avere la sua armatura sì 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 mi ricordo che feci di tutto per poterla equipaggiare cioè anello di Avel con veramente feci tutto per utilizzarla per non essere in Fettrol bellissimo bellissimo questo è forse uno dei migliori delle migliori boss fight di tutti i Dark Souls sì 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 di Dark Souls 1 è potenzialmente top 3 senza alcuna ombra di dubbio quindi è chiaramente top 3 però a livello di trilogia comunque sì è assolutamente tra le migliori e basta tra le migliori perché poi è pure difficile fare le top tra i vari giochi perché cambiano molte meccaniche cambiano molte meccaniche la velocità dei fight cambiano le risposte dei boss quindi per me e per quello pure che io ti avevo detto di farla solo partendo da un capitolo e poi all'altro perché certo se no rischi di fare un mappazzone di giochi dove ci sono metodi di combattere totalmente diversi è vero però cazzo io sono rapito qua questo duello uno contro uno è fantastico sì ma poi tra l'altro ha le fasi in cui cerca di andare o meglio rischia di andare in Burserk e poi se lo fa cioè è bello perché devi stordirlo hai delle diverse diciamo attenzioni da dare allo scontro come ora che sta per allontanarsi e fare di nuovo il Burserk e Manus che vedremo tra un po' probabilmente è simile perché ha la fase 2 in cui comincia a castare gli incantesimi oscuri anche quello è un bel boss lo adoro con una bella loro eccolo qua vedi qua cerca di andare qui rischi di andare in Burserk e tu devi fermarlo sai quante volte qua ho failato all'inizio eh certo ma è ovvio come fai ad aspettare perché non mi sono mai trovato in questa situazione quindi ti abitui a un certo punto cominci a capire ok devo andare più veloce quindi devo cominciare a schivare parare lui non si può parriare vero? no ok no in realtà questa è una cosa interessante in Dark Souls 1 praticamente nessun boss fight nessun boss è parriabile Dark Souls 3 ha qualcosa in più Dark Souls 2 sono molti perriabili ma senza riposte quindi è semplicemente uno spreco di risorse e rischi quello che sta succedendo è che in Elden Ring invece è quasi tutto 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 perriabile infatti è molto interessante qualcosa spero che non sia eccessivo eh bisogna vedere esatto diciamo che per ora abbiamo scoperto una cosa interessante che c'è una boss fight molto importante di vera difficoltà che è perriabile ma se non gliene fai due non puoi fare riposte cioè ci sono delle cose interessanti è tosta io comunque vorrei far soffermare le persone soprattutto ho problemi di connessione attualmente ogni tanto lagga la live mi dispiace per questa cosa però è strano perché in realtà io non ti sento laggare intanto ringrazio Froze del raid grazie ragazzone è unbedier Froze arriva per Chad di Darkov yeah io comunque veramente ragazzi vi devo far soffermare su questo personaggio perché perché davanti di Dark Souls prima che arrivasse il DLC era tutto un come posso dire c'è questo personaggio questa leggenda più che questo eroe ecco che come viene dipinto dove tu sai solo alcune cose su di lui nel dettaglio per arrivarci nel dettaglio vabbè c'è la lore ovviamente la cosa bella è che quando arrivi qui se non sei uno che si era già spoderato che ci sarebbe stato Artorias è uno shock sì no infatti diciamo che è una cosa che non ti aspetteresti di vedere in questo modo il DLC si chiama Artorias of the Abyss però è comunque un colpo anche perché non si era mai visto Artorias prima ma lo sai qual è la cosa io pensavo che noi sì Artorias of the Abyss ma io pensavo che noi scendevamo nell'abisso ok sì 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 esatto Artorias era lì nella tomba di Sif con lei a protezione cioè per me era quello la mia idea nella mia testa arrivare qua apri e vedi Artorias all'inizio e allora facevo Artorias leggi poi Artorias e la fai ma infatti scoprire i nomi dei boss è sempre un'emozione perché la contestualizza esatto e poi tutta la boss fight è veramente estenuante è veramente estenuante come abbiamo detto prima quindi questo forse questo qua è proprio il boss che si può dire questo è Dark Soul cioè questo è proprio Dark sì questo sì questo tanto è tutto nelle tue mani devi stare attento è ordinato pulito cattivo punitivo se sbagli una volta sei nei guai fino al collo salvo che tu abbia resistenze o difese come questo ragazzo esatto prende una botta non sente niente in realtà ha 99 resistenza ma lui chiaramente ha 99 resistenza probabilmente è di livello 600 e non lo sa no ma non capisco come fa a essere così resistente parliamo di un boss che ti bisciotta eh sì è difficilissimo cioè di solito one shot a questo bisciotta al massimo arrivi qui ormai è fatta che aspettavo eh la musica è anche molto malinconica è fichissimo io sono curioso nel Dark Fascist c'è lui sì vedrai vedrai quanto cazzo devo vedere come l'hanno rifatto sì sì complimenti tra l'altro a quei ragazzi che hanno fatto quella mod perché è devastante mi ha creato una confusione mentale perché Dark Souls 1 è quello che ho giocato di più eccolo Manus ma bellissimo boss bellissimo boss bellissima storia sì arena particolarissima lui lui è la boss fighter definitiva perché è una delle cose più difficili in assoluto di Dark Souls forse la più difficile in assoluto Manus è veramente tosto in realtà la cosa paradossale che adoro è un boss che è vari classi e sì è difficilissimo ma è uno dei più facili da fare perfetti una volta che lo conosce è proprio figo per questo è la rappresentazione finale di come deve essere fatta una boss fight per me è il migliore in assoluto questo è incredibile perché sembra caotico in realtà è precisissimo mi sarebbe piaciuto un'introduzione più prepotente per lui eh sì quasi qua siamo praticamente alla conclusione peccato che non puoi tagliargli la coda peccato qua siamo praticamente alla conclusione perché dopo c'è solamente che è opzionale no il drago è Calamite sì Calamite dovrebbe essere è opzionale è opzionale sì sì è opzionale è proprio animalesco comunque sì nel cioè sembrava veramente una sorta di di gorilla silverback incazzato come una bestia assolutamente guardalo il braccio mi piace tantissimo perché dà quell'effetto di confusione che a volte non ti fa capire quando li sei dilato hanno fatto veramente bene poi tra l'altro ha questo bastone che è di incantatore e molto presto lo userà sì questa è la combo che devi schivare la prima volta altrimenti ti ha preso è la combo non prende danno comunque c'è questa roba sciotta è resistentissimo ah ha il silver pendant spero che non lo usi quell'oggetto che ha se il silver pendant scusami praticamente è un artefatto nascosto nel dlc che ti permette di riflettere gli incantesimi oscuri quindi quando lui andrà in fase 2 potrà proteggersi utilizzando quello oddio io non l'ho mai usato è un po' come una summon diciamo non lo sapevo tipo là il carillon di bloodborne esatto esatto sì sì è una finestra di danno che poi ovviamente con questa eccolo qua ecco vedi ti difendi dall'incantesimo altrimenti avrebbe dovuto schivare l'incantesimo sapendo dove e quando levati da lì si può cadere in questa arena? no 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 qua la difficoltà è altrove anche perché gli incantesimi sono tre e due di questi ultimi sono molto legati a dove ti muovi quindi per esempio ce ne sono alcuni che partono dalle barriere dell'arena e vanno a convergere su manus e per schivarla devi correre verso manus perché non possono colpire lui comunque non vedevo il DLC da una vita non mi ricordavo che veramente i boss erano così aggressivi madre sta pioggia che roba era madonna come l'ha tancata che cazzo è impossibile morire what the fuck c'è un ritmo veramente incalzante si lui è fantastico bella boss non me la ricordavo di giuro rivederla ora è un'altra cosa ma ci credo perché tutti sono ricordi talmente vecchi che si è abituato a pensare in un determinato modo esatto esatto infatti deve essere bellissimo rivederle anche perché qui sembra caotico ma in realtà i suoi attacchi sono molto precisi veloci ma ordinati io giuro non riesco a non trovare una similitudine con un cazzo di gorilla silverback di giuro è un cazzo di animalisco cattivo violento spettacolo non lo sapevo questa cosa del silver pendant è nascosto spettacolare sono contento che ha sempre usato la stessa arma in questi video comunque in realtà è ordinato mamma effettivamente sono alcuni che li puoi simrollare minchia questa l'ha sentita lui tra l'altro anche se vai a distanza queste sono tutte chicche di design con i suoi occhi rossi brillanti riesce a vedere dov'è anche se sei lontano lo stavo per dire visivamente quanto è figo quando ti allontani perché qua riprende pure la meccanica quella un pochino del prigioniero che c'è in dark soul 2 no si 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 era che pratica guarda che roba spettacolare sta cosa del silver pendant di giuro ha fatto su tutte tre le magie poi esatto la cosa la cosa del sinner che quasi non attivi le torce no sei al buio di risar get bellissimo ora ci farà vedere calamit sicuramente forza resto tocca calamit calamit è una bella boss fight draconica bella ma ti giuro io i draghi su dark solo l'ho sempre visti pure per la loro no come queste creature mistiche assolutamente potentissime che distruggevano eserciti e sfortunatamente me la sarei aspettato un pochino lui viene meno mato diciamo da gaff però la boss fight è molto ben fatta ma ti consiglio di vivere l'esperienza mi dir non so nemmeno cosa sia appunto non scoprirlo lo troverai non vale a vedermi niente che ti guideranno su dove si trova in caso perché è veramente nascosto i migliori naturali ma mica se facciamo la recensione poi dei boss di arcstall 3 quando arriviamo al dlc come si chiama derring ed city derring ed city se schippa non l'ho fatta ancora aspetterò che tu lo faccia assolutamente ne vale la pena molto bello quando lo vedi la prima volta calamit si che ti appare sul ponte inaspettatamente ti guarda con il suo occhio a me piace tantissimo il design che hanno fatto di questo di questo drago il drago corrotto dall'oscurità è bellissimo è in realtà non ha l'occhio singolo sai in realtà lui ha degli occhi solo che quello è quello è un po come le ali di farfalla per cacciare i predatori davvero sì lui ha dei piccoli occhi hai date però il vero occhio è quello centrale ovviamente quello speciale guarda ti fa anche vedere i dialoghi perché 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 devi attaccare gaff non capisco così da botto allo profetare sì ma non è una boss fight a me è anche bella la quella che quando la swinga si capiva niente aveva voglia ok per sport cioè non ma non ha mica uscito gli altri npc questo però guarda si è anche messo l'incantesimo per non fare rumore perché lui è cieco non lo sente che cazzo stai dicendo sì sì lui è c'è se non se tu non fai rumore non ti vede ma è come quello di demon soul esatto 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 esattamente se tu non fai rumore a gaff lui non ti sente vedi che ti cerca no vabbè ma che spettacolo è bellissimo è bellissimo cura per i dettagli ma non sapevo questa cosa bello e guarda che è per questo che questa è una cosa totalmente inutile cioè esatto siamoci cura per i dettagli che cazzo ma guarda pure che c'è lo splash all'indietro non sono in avanti esatto sì sì lui è curato nei minimi dettagli e tra l'altro ti posso già dire che altro paradosso e chicca tra l'altro questa invece pensata e ti verrà un cardiopalma hai a che fare con una possibilità nella boss fight di calamit di combatterlo e vincerlo anche senza la freccia di gaff se tu ti metti al bordo dell'arena con un'armatura molto pesante o con un incantesimo molto potente puoi resistere alla fiammata fargli tot danni ogni volo e se tu lo sconfiggi in quel modo e lo si può fare pensa non solo è ragionato a livello di gameplay che sia possibile farlo ma viene contestualizzato da un dialogo unico di questo cacciatore che ti dice che lui riconosce il tuo valore è assurdo cioè quindi è voluto pure sì Dark Souls è assurdo è assurdo molto bella qui l'arena sì poi bisogna dire l'arena è molto figa così a corridoio così ampio la musica è arrabbiatissima e lui fa paura comunque a modo suo perché è grosso ma velocissimo sì mi ricorda il drago quello del DLC Dark Souls 2 alcune sì 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 è vero mamma mia qua lo ha preso con il grab tra l'altro adesso subirà doppi danni quindi non verrà colpito perché altrimenti può avere tutta la resistenza che vuole ma eh ti vuoi sciolta eh bello anche il fatto che le fiammate siano ordinate non abbiano range infiniti tick multiply che guarda qua che leap mamma mia sai che io ho sempre trovato che Dark Souls avesse una difficoltà a fare gli animali comunque a quattro zampe sì ma l'ha sempre fatto certo ha sempre avuto problemi però personalmente questo è uno di quelli fatti meglio perché comunque delle mosse che danno un po' di problemi o comunque lui si prende pure degli spazi sì 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 poi attacca subito non è tipo Sif no esatto esatto eh questo bella l'animazione dello scudo quando si questo è veramente a livello cioè come DLC è fatto non c'è una pecca no il DLC è veramente stupendo è come soffia ah qua quando fa la scivolata esatto cioè vedi come sono saliti di livello rispetto a quello che abbiamo visto prima esatto sembra quasi di essere non più su Dark Souls 1 no no infatti è uno step forward che si percepisce un sacco è bellissimo una domanda è il DLC di Dark Souls 1 quanto tempo uscì prima di Dark Souls 2? eh due anni due anni ok sì eh ma la differenza di Directors non si è notata un po' un pochino Dark Souls 2 non l'ha fatto Miyazaki con questo boss ma tralasciando quello che dicevo prima io dei boss cioè nel senso che hanno avuto sempre un po' di problemi con i boss a quattro zampe no? mazza guarda qua come con catena gli attacchi questo effettivamente visivamente è super catchy guarda che guarda che roba come attacca come si muove sì sì c'è un predatore più che un drago sembra tipo una pantera no? vero 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 sembra una pantera tutta nera con questo occhio rosso singolo che sputa fuoco è veramente bello sembra più è molto animalesco diciamo ferale feroce sì sì eh ferale esatto esatto bello però e sta facendo posta bello è vero no questa boss fight è veramente bella ah sono contento che tu rivedendola stia un po' apprezzandola di più perché sì perché questo l'ho fatto solo una volta capito quindi rivedendolo vedo cose che magari non ricordavi poi magari ora le apprezzo in un altro modo no? certo le rivedo pure sotto un occhio magari più magari artistico e puoi anche tagliargli la coda eh che dava la coda? la spada d'ossidiana è praticamente una spada nera che ti permette di utilizzare un attacco speciale che crea le stesse fiammate oscure che soffia lui figata figata eh ma sa comunque quanta vita eh no beh sì lui ha tanta vita ma è anche il giocatore che ha un'arma veramente scarsa effettivamente questa qua è un'arma che già dopo quella la puoi buttare decisamente sì decisamente sì anche perché non scala sulle caratteristiche ma poi la potenziata più 5 non hai sì la caratteristica una caratteristica che va a OS che puoi sfruttare a tuo vantaggio no ma non va neanche a E non scala proprio è vero? era così la spada del drago? le armi le armi nessun'arma draconica scala solo che per esempio lo spadone d'ossidiana è endgame l'ascia del re drago che è quella del gaping è fortissima perché è un'arma pesante questa invece è un un puntaspilli cioè guarda qua che rischio ma lui non rischio lui è chiaramente immortale per qualche ragione come puoi notare vedi è veloce è aggressivo è cattivo non si ferma un secondo ha mosse varie in base a due tiposizioni può fare o la scivolata o il decollo per soffiare o fa questo per poi girarsi e soffiare esatto questo questo secondo me lo sai qual è la cosa bella? è che guarda quanto sputa fuoco si 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 non si ferma poi visto che fa pure quella all'indietro per sputtare fuoco e certo certo che si alza subito dopo questo cioè con catena pure quindi sono un'unione di vari attacchi calamity ringa che faceva di giuro non mi ricordo niente serve è una challenge interna serve a farti prendere doppi danni così per sport? per sport esatto andiamo un secondo allora e qua arriviamo alla fine e qua arriviamo alla fine lord gwyn lord of cinder qua arriviamo alla fine kiln of the first fight com'era che si chiama? si è la fornace della prima fiamma kiln of the first flame e allora qua c'è da dire una cosa prima di che andiamo al boss fight che vabbè questo è è bella come boss fight tralasciando il fatto che se poi impari a giocare a fare i perri è super facile esatto ma è tutto quello che è prima per arrivarci si questo mondo composto di cenere le visioni tra virgolette dei cavalieri degli spettri esatto degli spettri non saprei come definirlo è una bellissima chiusura secondo me per quanto a molti non sia piaciuto perché tutti si aspettavano a me molte persone mi hanno detto così personalmente il boss gigantesco da combattere la creatura immonda enorme io questo l'ho trovato proprio bello mi piacciono poi i boss umanoidi non estremamente grandi quindi questi combattimenti un po' action veloci in cui devi rispondere devi controbattere questo è veramente bello ho mutato l'audio scusami ma guarda fa vedere subito dall'entrata esatto pensa che Miyazaki si è pentito di aver reso per riabile Lord Gwyn perché effettivamente lo cancelle eh sì quello è veramente ed è il motivo per il quale cosa che ho sempre adorato da pazzi Soul of Cinder in Dark Souls 3 invece pari a te è vero è vero mi è capitato esatto esatto ti è piaciuto farlo a Gwyn vero è invece è bello pure come tutte le fasi che ha sì 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 però cioè senti che musica con sto piano di sottofondo cioè stupendo questo ovviamente è diventato non lo è per la massa ma per i videogiocatori intendenzialmente la soundtrack di Lord Gwyn è ovviamente incredibilmente iconica a me dispiace solo che molti giocatori non abbiano apprezzato il fatto che lui sia umanoide eppure eppure per me è forse una delle cose più fighe il fatto di combattere esatto perché è come un duello no? sì quella la cosa per quello che apprezzo per esempio personaggi come Artorias oppure gli Abyss Watcher di Dark Souls 3 per me sono forse quelli più fighi e poi i draghi perché non lo so nel fantasy a me il drago è sempre stato da giocatore di Dungeons & Dragons è certo la sua mitologica per eccellenza quindi sono appassionato di questo è la prima volta che vedo sconfiggere mi hai visto che sono super a voglia certo i boss umanoidi mi piacciono molto di più comunque lo sto facendo normale come stavi dicendo no lo sto facendo normale perché non è buono probabilmente però il fatto è questo sono contento che lo stai facendo e sono sorpreso che è la prima volta in tutta la mia vita che vedo sconfiggere Gwyn con la trick sword cioè o scegli un'arma debole perché è debole oppure usi un'arma normale o forte questa è una via di mezzo incomprensibile io questo la prima volta ho fatto così senza perry mamma mia sto grab che brutto mamma mia che odio che odio che era sto grab sto boss è super promosso per me Gwyn è una boss fight che si è immaginata senza perry è promossissima è bellissima tra l'altro la puoi semplificare con uno scudo antifuoco perché la sua arma è fortemente elementale è bella quindi ti fa danno allo scudo esatto ti fa danno anche se tu pari se invece lo scudo è al 95% di fuoco riesci a udulcolare parecchio la preoccupazione quanto meno madonna berserk proprio sì 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 privo di senno completamente in difesa della fiamma su armatura poi si poteva prendere giusto sì sì la puoi mettere in New Game Plus te la puoi godere solo per in Game Plus si compra giusto no la trovi anche cioè la trovi la compri da Dom Hall of Xena in New Game Plus esatto mi ricordo solo te che me l'hai rimasto impresso ed ecco qua tutti i boss la cosa più bella però è pure arrivarci qui sì 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 i cavalieri i suoi cavalieri e questo è il finale di Dark Lord tra l'altro qua si apre poi un mondo sui finali tra l'altro perché c'è tutto un mondo però guarda che è stata figa abbiamo fatto una chiacchierata boss by boss tutti eh nessuno escluso ed io ero curiosissimo di sapere come li avresti affrontati minchia due ore e 51 dal di live a me ci stava dicendo io lo volevo troppo fare perché magari pure i ragazzi che ci sentono magari sono alcuni che chiudono e fanno me lo vado a giocare no penso che saranno me lo voglio rigiocare allora penso che saranno in tanti io non avessi impegni particolari attaccherei e comincerei a giocarci adesso io mi sono innamorato mi è venuta una voglia matta questa è una cosa da fare anche con Dark Souls 2 e 3 eh senza fretta io Dark Souls 2 sono super critico non ti preoccupare ci divertiamo guarda Dark Souls 2 è molto bello perché hanno la densità dei boss è aumentata non ti preoccupare non diciamo niente non diciamo niente non avere preoccupazione sul fatto che sei critico di Dark Souls 2 non avere problemi con me allora allora va bene però secondo me lo possiamo fare su Dark Souls 2 e Dark Souls 3 ma io lo voglio fare sul Dark Souls perché si avvicina molto di più ad Elden Ring quindi è pure carina come cosa per i ragazzi che non hanno mai giocato però hanno visto Elden Ring vedono l'hype delle persone su Elden Ring e tutto il resto secondo me se iniziare a giocare ora a Dark Souls oppure di giocarli per il proprio gusto personale fa tanto perché Elden Ring ragazzi sarà personalmente forse uno dei prossimi titoli di cui si parlerà per tantissimi anni sì quindi è bello proprio secondo me il fatto che pure magari vedere noi che magari parliamo di questo a molti risale la voglia come hai detto tu Michele che ora parlandone o magari nuovi giocatori che a me fa piacere vedere i giochi che dicono ok chiudo la live chiudo la live me lo vado a scaricare cioè mi fa piacere perché poi mi diverto quando mi raccontano quella poi è la parte più divertente lo scambio di opinioni su come hai fatto un boss la build esatto esatto queste sono cose belle poi in Dark Souls 2 le build sono molto varie quindi è uno dei suoi pochi pregi reali e quindi è carino poterne parlare lo so ce lo deniamo per quando andiamo a parlare ce lo deniamo per quando andiamo a parlare con calma poi ci facciamo Dark Souls 2 e poi Dark Souls 3 comunque perché secondo me è bello avere poi queste opinioni no? perché sono opinioni e poi rimangono quindi è bello sì esatto quindi sono lì così e guarda ti ringrazio Michele perché era da tempo che volevo fare qualcosa con te stupendo mi piaceva e poi su un gioco che per me mi ha fatto appassionare tanto scoperto totalmente a caso prima del suo hype perché all'uscita Dark Souls in Italia non riesco dettanto successo eh no all'inizio no poi c'è stato tutto il meme no? su YouTube la gente che lo portava perché era difficile tutto il resto e lì ha avuto finalmente la sua rivalsa perché questi qui sono dei titoli che magari passano in sordina perché noi siamo siamo molto legati solamente a quelli che sono i cosiddetti tripla e per morire sono comunque non è un tripla assolutamente non è un tripla però a livello qualitativo siamo sopra molti tripla ma se posso permettermi di dire questa cosa dai si devi dai giocatori anche il fatto di ricercarsi i giochi perché io l'ho conosciuto tramite passaparola di amici quindi alla sua uscita bello e così poi ho scoperto Dragon's Dogma che comunque un altro gioco non è un'eccellenza però se ti piace Dark Souls Dragon's Dogma ti piacerà personalmente quindi sono d'accordo è giusto è giusto e niente mi ha fatto piacere fare una live con te ci siamo parlando infatti finalmente finalmente poi riusciremo prima o poi a viverci un po' dal vivo in qualche occasione accadrà ma è stato un piacerone e aspetto bis e tris senza fretta riusciremo a fare cose bellissime intanto entriamo su Whatsapp e speriamo di vederci poi a un evento dal vivo così facciamo una bella ghiacchiera una bella mangiata assieme let's go un piacerone io ti ringrazio tantissimo è stato un piacere ringrazio pure i tuoi ragazzi un piacere saluto io i tuoi e alla prossima allora alla prossima allora Michè io vado e ci risente grazie ancora alla prossima ciao a te poi se ti serve il mio VOD scaricatelo se vuoi farci qualcosa non farti problemi guarda noi abbiamo fatto un setup perfetto quindi al massimo metterò la tua facecam in piccola da qualche parte che sarà perfetto sarà bellissimo viceversa se ti serve non farti problemi a scaricartelo a roba varia o se ti serve vale lo stesso a presto ciao grazie mille Michè bye bye vi è piaciuto?